e ad altri che si stanno iscrivendo e che stanno arrivando. Allora, inizio da un bellissimo articolo che io ho avuto modo di leggere sul Financial Times di Rachman. Il fondista in questo articolo spiegava che a fronte di una formale equiordinazione di tutte le persone nella titolarità del sacrificio corrispondeva in via di fatto invece una sostanziale disuguaglianza. E questa affermazione a me è piaciuta molto e mi ha indotto appunto a meditare che cosa nella prima fase di questa pandemia, di questa regolazione per mano del Presidente del Consiglio, avesse determinato quanto Rachman infatti diceva, che potrei sintetizzare nell'espressione di una asimmetria negli effetti sociali. Secondo me lì nel momento in cui si è effettuato il bilanciamento di cui tanto abbiamo parlato ieri tra il diritto assunto quasi come supremo alla salute pubblica e gli altri diritti fondamentali invece degradati, considerati un po' figli di un Dio minore, bene lì in questa comparazione, in questo bilanciamento si è preso in considerazione il tre primo comma soltanto nella sua accezione positiva, cioè che situazioni uguali vanno trattate nello stesso modo ma forse si è dimenticata la seconda parte della locuzione, cioè che situazioni differenti meritano di essere trattate in modo differente. Nel momento in cui questa differenziazione dei punti di partenza non è stata presa in considerazione, sono stati tutti più ordinati ricevendo il medesimo sacrificio, è ovvio che il sacrificio su persone che già vivevano una situazione di difficoltà economica e sociale si è avuto un effetto moltiplicativo, moltiplicativo ovviamente non nel bene ma appunto nel disagio. Darò giusto qualche esempio. Pensiamo ai bambini diversamente abili costretti a stare a casa e per loro questo è stato quasi una prigionia perché non potevano uscire. Pensiamo ancora a coloro che hanno perso il lavoro e non sono nella stessa condizione un lavoratore autonomo che comunque ha certi risparmi probabilmente sul conto bancario e un lavoratore dipendente monoreddito e qui faccio riferimento di un importante rapporto uscito dall'Istat che con questi 2.500 euro che aveva risparmiato ormai è già arrivato quasi allo zero. e quindi vedete che a fronte di sacrifici formalmente uguali nella compressione delle libertà fondamentali sono corrisposti invece degli svantaggi moltiplicati a danno di coloro che già vivevano una situazione di visaggio. e questo perché? Perché le categorie degli esclusi a stento hanno i mezzi per fronteggiare una situazione ordinaria per loro la straordinarietà diventa insostenibile. Bene, questa considerazione non è stata presa invece in alcun conto e questo determina un obbligo a mio parere giuridico nella fase 2 cioè che le misure compensative tengano conto di questa situazione affinché non si faccia una compensazione uguale per tutti. Qui il governo dovrebbe avviare quelle a noi costituzionalisti molto care azioni positive che io chiamo azioni asimmetriche in buona parte cioè dovrebbe disciplinare dando di più a coloro che sono rimasti indietro quindi accelerare la corsa dei meno fortunati e raffreddare quella dei più fortunati altrimenti il prezzo di questa crisi la pagheranno soprattutto coloro che erano già esclusi trovandosi in una situazione di iper esclusione come è stata anche con la precedente crisi economica perché in questo convegno io ho avuto l'idea di mettere insieme stato di emergenza e tecnologia c'è una ragione e la ragione è la seguente che se è vero che lo stato di emergenza ha determinato questi effetti sociali asimmetrici bene la tecnologia potrebbe funzionare come una spinta in senso inverso potrebbe essere cioè uno aiuto appunto a realizzare attraverso le nuove le nuove tecniche a realizzare l'uguaglianza sostanziale che tanto c'è stata promessa quindi una leva la tecnologia al servizio dell'articolo tre secondo comma e quindi al compimento di quella che la piena dimensione costituzionale della persona e l'espressione ovviamente risulterà familiare ad Antonio Ruggeri ma ciò è accaduto? cioè effettivamente la tecnologia ha soccorso lì dove gli effetti sono stati ineguali e avrebbe potuto farlo a condizione che la tecnologia fosse stata anticipatamente orientata io dico verso il common good espressione anglosassone che significa tanto e quindi qui riprendo anche se brevemente alcune mie antiche riflessioni sull'alternativa tra una self regulation e invece una tecnologia ben diciamo oggetto di eteronomia se la tecnologia fosse come è invece affidata alle forze naturali della domanda e dell'offerta che nel nostro sistema significa i poteri economici forti le cosiddette autorità private i gruppi privati di interesse bene se così fosse ovviamente la tecnologia finirebbe per giocare soltanto a vantaggio di questi soggetti avrebbe cioè una inevitabile un fisiologico esito egoistico come dicono alcuni inglesi che i vickers quando l'interesse pubblico è affidato ai gruppi privati di interesse la realizzazione del common good è un evento del tutto eventuale ed occasionale dipendendo dalla coincidenza del common good con la prospettazione privata ebbene lo Stato non può scommettere solo sulla parte buona dell'individuo e sperare che essa si realizzi ma deve prendere in considerazione l'ipotesi inversa una normale fisiologica ripeto tensione della persona a vivere riversato piegato su se stesso ed aiutarlo invece a guardare in alto a dare attuazione alla spinta verso la solidarietà come regolando la tecnologia e qui le regolazioni dovevano andare in una doppia direzione ma questo è un discorso che si doveva fare in anticipo nel tempo quale direzione da un lato utilizzare sì privati ma disciplinando anticipatamente la fisionomia di questi governi privati di interesse la democraticità interna i sistemi elettivi della governance evitare i conflitti di interesse la trasparenza del loro assetto visto che spesso dettano regole che hanno efficacia diretto e indiretta anche sulle nostre situazioni soggettive secondo punto punto direi dinamico riguarda la funzione regolatoria se dovesse essere in parte affidata ai privati si deve trattare di una self regulation governata da un intervento pubblico che anticipatamente segna l'obiettivo finale la orienta verso la realizzazione di certi fini stabiliti dal soggetto pubblico e non si limita soltanto ad un compito orientativo ma già a un contenuto immediatamente prescrittivo insomma è già una norma di relazione e non è solo una norma di azione sui privati tutto ciò non è avvenuto diamo uno sguardo a perché do questo giudizio negativo non perché non sia pessimista anzi forse sto correggendo questa parte un po' brutta del mio carattere ma perché questo effettivamente non è avvenuto almeno a mio modesto avviso andiamo a vedere che cosa è accaduto alla banda larga alla banda iperlarga della quale in questi giorni noi avvertiamo tanto il bisogno proprio perché non c'è e questa era stata dalla commissione europea primo pacchetto direttive secondo pacchetto direttive delle tlc finalmente assunta servizio universale dopo la battaglia di molti io in italia fui tra i primi a dire che la banda larga deve essere qualificata in termini di servizio universale e non di attività di impresa perché deve rendere un servizio a tutti ovunque questi tutti riseggano e ha un costo che sia affordable insomma la banda larga se servizio universale e la traduzione in termini di attività di quella che è la situazione giuridica soggettiva di ciascuno di noi come cittadino della rete verso la rete anche qui ripropongo diciamo un mio antico amore quello cioè dell'accesso come diritto sociale quindi come un diritto che abbia una sua giuridicità nella duverosità della prestazione per il debitore anche se diciamo è un po' insufficiente sotto il profilo delle misure coercitive del come realizzarlo ebbene proprio qualche giorno fa il nostro presidente del consiglio la di personale aveva detto che la banda larga è un diritto sociale allora una mia collega che è oggi qui è con noi e cioè fulvio abbondante mi dice sarai finalmente contenta la tua tesi è stata accolta anche politicamente ma come per esempio gli studiosi e qui faccio riferimento ad Antonio D'Aloia ma tanti altri Antonio Ruggieri sanno il diritto sociale non basta che sia qualificato tale occorre che lo Stato faccia dei significativi passi avanti cioè si muova nella direzione di attuare l'accesso qui la direzione di attuare l'accesso significava stenderla su tutto il territorio indifferentemente coprendo anche quelle zone lì dove la mano privata non arriva che sono disutili economicamente ciò non è accaduto vi do solo un dato siamo i più in ultimi nella classifica europea e abbiamo una banda a cento megabytes che copre solo il 26 per cento della popolazione contro la media europea che supera il sessanta per cento e voi direte ma è così grave e lo è perché nel momento in cui il diritto fondamentale che andiamo ad esercitare in rete sia esso il freedom of speech sia esso un altro diritto sociale pensiamo di learning o anche il diritto a una prestazione sanitaria o anche diritti fondamentali quale quello che stiamo noi in questo momento esercitando di riunirci e di parlare bene necessita della banda larga ecco che essa diventa la condizione giuridica essenziale affinché il diritto fondamentale non si limiti a una mera titolarità ma sia una concreta possibilità per tutti e qui direi soprattutto per coloro che altrimenti non potrebbero esercitarli avrebbe quindi assolto una funzione di di elemento che accorcia le distanze che asciuga le differenze sociali una fixio iuris tecnologica bellissima che avrebbe reso uguali coloro che uguali non erano consentendo a tutti di esercitare questi diritti in rete ma ciò non è stato è ancora una promessa la troviamo nel nella legge di conversione del decreto curitalia dove se non ricordo male l'articolo settantasei si dice che le telco hanno l'obbligo di realizzare la banda larga che io dico non l'hanno fatto per tanti anni lo riescono a realizzare nell'arco di un mese e poi perché le telco se il servizio universale servizio dello stato qui lo stato non può girare i suoi compiti ai soggetti privati e poi dolersi che non sono stati fatti perché non era lui e lui il debitore in prima battuta qui c'è una notevole confusione ieri l'abbiamo vista tra gli organi costituzionali qui c'è una confusione tra soggetto politico ed attore sociale di regole e di qualificazione in termini di effettività del diritto sociale e anche in parte condivisa e me dalla nostra corte di ritenere la tracento sette del duemila e quattro che l'uso del pc fosse uno strumento indispensabile per poter accedere alla banda larga e riconoscerlo quindi come diritto sociale non possibile grazie a giusto istituzionale francese datato sulla legge del duemila e nove il quale invece riconobbe anche se con una certa oscillazione all'interno del ragionamento della sentenza tra interesse alla banda larga e diritto soggettivo faceva il discorso che eh se è un diritto fondamentale il bene finale al quale l'accesso ci porta ecco che questa giuridicità del bene finale io dico è come se fosse un'ombra che si proietta l'indietro e rende giuridico lo strumento nulla di nuovo lo ha detto la corte costituzionale quando con la giurisprudenza degli anni settanta e ottanta aveva il coraggio di dire che il ventuno rendeva giuridico l'accesso ai mezzi ancorché nei limiti del tecnicamente possibile bene oggi questo non è. Torniamo ancora alla Francia per la quale invece lo è c'è un bel consiglio costituzionale recente invece del duemiladiciotto in materia diversa ma non tanto che è la materia della decisione algoritmica nella quale viene detto che il diritto di utilizzare gli algoritmi se questi sono algoritmi self learning cioè che si auto che auto imparano da soli bene la decisione non può più essere esclusivamente algoritmica se è un self learning perché quando è un self learning il destinatario non può conoscere quali sono le regole in base al quale l'algoritmo ha portato a quel risultato e quindi viene leso nei suoi diritti digitali questo con sé il costituzionale ha addirittura delineato disegnato lo statuto dei diritti digitali del soggetto quindi le regole occorrono e come occorrono sulle 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 reti che dovrebbero a mio giudizio essere reti pubbliche con distinzione tra il titolare della rete il portatore del servizio cose che da tempo dicevo e soprattutto con una giuridicità per quanto riguarda l'obbligo di esecuzione della prestazione di banda larga andiamo anche a delle regole che dovrebbero riguardare i big data e il loro risultato tramite la macchina algoritmica sui big data mh ho condusso insomma qualche anno fa o due anni fa una bella ricerca in in Germania col market con Max Planck bene ehm la mia convinzione è che queste masse di dati che sono impropriamente detenute dai giganti della rete andrebbero messi a disposizione dei nuovi entranti anche qui il diritto antitrust così come siamo abituati a pensarlo non ci basta più perché non riesce a configurare queste dominanze come nuove abusi di mercato e quindi a punirli occorrerebbe o una interpretazione coraggiosa o una nuova disciplina antitrust che imponga almeno come rimedio ripristinatorio non semplicemente la dismissione di una condotta ma la condivisione di big data perché che quelli rappresentano il petrolio delle economie data driven e se acquisito in via gelosa nelle mani di soggetti che hanno effettuato un'appropriazione in debita perché sono i nostri dati bene rappresenta una barriera tecnologica e quindi non è più una concorrenza aperta ai terzi ma è una battuta di arresto e la difesa delle posizioni competitive già esistenti un passaggio sugli algoritmi e poi mi taccio ci sarebbe tanto da dire ma anche qui le regole sono importanti ma non ci sono e l'anarchia algoritmica che è molto presente soprattutto negli Stati Uniti e meno da noi grazie al regolamento europeo porta alla tirannia dell'algoritmo sulla volontà dell'uomo al punto tale che la decisione la assume la macchina e il destinatario di effetti pregiudizievoli per lui e per un'intera categoria perché sono massificanti come decisioni bene non ha neanche il diritto di conoscere non dico il codice sorgente ma almeno come l'algoritmo stia funzionando perché gli americani dicono è trade secret è segreto industriale si tutela la proprietà tu non hai diritto a sapere nulla ma se l'algoritmo come per le reti sono strumenti al servizio del bene pubblico la disciplina deve essere acquisita al diritto pubblico e allora il trade secret deve fare molti passi indietro dinanzi al nostro diritto alla piena trasparenza che mentre all'epoca del novantasette della costituzione era il diritto di entrare nella procedura amministrativa ora la privacy è diventata tutt'altro è un triangolo è il diritto di interloquire non solo con chi tratta i dati ma con chi utilizza l'algoritmo affinché l'algoritmo non sia una macchina oscura che decide sul nostro destino e spesso in maniera diciamo iniqua in maniera bias in maniera discriminatoria senza poterla con difficoltà anche di contestarla in tribunale perché quando entra un algoritmo il caso Lumis è semplificativo il giudice quasi alza le mani anche se poi nella sentenza dice che non l'ha seguito perché perché ha una parvenza di legittimità gli americani parlano appunto di un label di una parvenza di legittimità in quanto sembrerebbe obiettivo chiudo quindi con un auspicio l'auspicio il seguente che la seconda fa la fase tre la fase del rientro nella legalità essendo stata tutta tipica questa emergenza sia tipica anch'essa cioè non dobbiamo rientrare nella condizione in cui eravamo prima c'è una condizione di forti disuguaglianze sociali ma dobbiamo fare un passone in avanti e come la solidarietà è stata chiesta a noi qui siamo noi a doverla chiedere al nostro stato come il nostro stato la sta chiedendo in parte ottenendo dall'Europa ed è la solidarietà finalmente di avviare le azioni asimmetriche in buona parte ma verso noi e di rendere pubblici quei servizi quelle attività quelle regole che servono per la realizzazione dei diritti sociali grazie dell'attenzione allora siete tutti in linea con me sì io passerei la parola ad andrea simoncini che ti puoi aprire tranquillamente il microfono per una riflessione su atto pubblico ai confini dello stato di diritto prego andrea allora ehm io intanto ringrazio giovanna per questo eh invito ho sentito la sua introduzione con grande interesse ehm io in realtà ehm è centrata molto sulla diciamo sugli effetti anche di diseguaglianza digitale che si stanno creando in questi momenti e che mi interessano moltissimo a me però devo devo essere franco quando ho ripreso il titolo stavo riflettendo sul titolo abbastanza enigmatico del mio intervento che sicuramente devo aver concordato con giovanna non metto in dubbio non penso di essermelo inventato io ma eh ma di fronte al quale eh mi trovavo un po' in difficoltà allora è venuto in aiuto Riccardo Lunas con un articolo su Repubblica di ieri che inizia così e così potrei sintetizzare un po' il tema che vorrei colpire con questo eh con questa eh mia breve comunicazione su atto pubblico ai confini dello stato di diritto dice Luna con la fase due sembra iniziata anche una fase nuova del rapporto tra politica e scienza per oltre due mesi gli scienziati hanno dettato l'agenda i virologi e gli epidemiologi hanno di fatto scritto le regole su cui si sono basate le compressioni dei nostri diritti individuali hanno ottenuto il lockdown chiudendo scuole uffici parchi negozi cinema teatri qui passaggio sono stati gli oracoli che la sera in tv laddove un tempo c'erano i politici ci indicavano la retta via quella per sopravvivere questo riferimento agli oracoli per descrivere la fase attuale del rapporto tra politica e scienza mi ha suggerito un'immagine che spero di eh consenta di sintetizzare in maniera breve il contenuto di quello che vorrei sottolineare con questo mio intervento e recentemente molti di voi l'avranno letto Marta Cartabia e Luciano Violante hanno riproposto la lettura delle tragedie di Edipo e di Antigone eh considerandole come una grande metafora per il diritto contemporaneo in effetti nella tragedia di Edipo un ruolo assolutamente determinante per tutto il corso degli eventi è proprio quello giocato da un oracolo quello di Delphi sia l'aio il babbo che Edipo il figlio volendo conoscere il futuro si rivolgono all'oracolo e l'oracolo che predice a laio che il figlio l'avrebbe ucciso così come più tardi predirà a Delipo che avrebbe ucciso il padre e si sarebbe congiunto con la madre e qui il commento che fa Cartabia sia laio che Edipo proprio perché avvertiti dal vaticinio per evitarlo metteranno in opera una serie di azioni che inevitabilmente lo realizzeranno paradossalmente è questa conoscenza del futuro prima che essa accada ad innescare quel corso di azioni che condurrà alla hubris sia del padre che del figlio. Ora la possibilità di predire il futuro è un desiderio con il quale l'uomo ha combattuto da sempre in fin dei conti tutto lo sforzo della scienza e della tecnica non è quello forse di cercare leggi, formule, modelli in grado di spiegare gli avvenimenti? Indubbiamente l'avvento della fisica quantistica, il principio di indeterminazione, la logica probabilistica hanno aperto scenari nuovi ma un punto non è mai stato messo in discussione finora. Il comportamento umano, le sue scelte, le decisioni non sono determinabili con le stesse leggi con cui si comprendono i fenomeni fisici o i fenomeni chimici. Alla possibilità di predire con assattezza il comportamento umano si è sempre opposta a una caratteristica tipica della nostra specie, l'imprevisto più pericoloso secondo qualcuno della nostra specie che è la libertà, ovvero sia la capacità dell'uomo di determinarsi autonomamente rispetto alla propria corporeità, rispetto alla propria storia, ai propri antecedenti. Per questo la capacità di predire il comportamento umano con la stessa esattezza delle leggi naturali è sempre stata fuori del perimetro della ragione. Cassese, commentando questo libro di Cartab e Violante, ha dato una lettura interessante, con questo vengo al tema di cui voglio parlare. Secondo Cassese questa sarebbe stata la hubris principale. Due re, sia Laio che Edipo, quindi due uomini che secondo la filosofia greca esprimono il livello più alto della capacità morale e razionale, cioè l'attività politica, due politici diremmo oggi, accettano di farsi guidare da predizioni delle quali non è fornita alcuna spiegazione ragionamente comprensibile. Angosciati dal desiderio di conoscere il futuro, accettano di sottomettere la propria intelligenza al vaticinio immotivato di un oracolo. Cosa accade in questo modo? Accade che effettivamente il figlio ucciderà il padre, cioè il soggetto umano che accetta una predizione priva di ragioni finisce per uccidere la ragione stessa. Questo è infatti il problema principale degli oracoli nelle tragedie greche. Hanno sempre ragione, ma non danno mai ragioni. Sono infallibili, ma incomprensibili. Allora, voi direte, ma che c'entra? Le teorie costituzionali dello Stato di diritto, sia nella versione rule of law anglosassone che dello Statsrecht tedesco, seppure così diverse tra di loro, hanno un punto in comune, sottomettere il potere pubblico alle leggi. E il cambio di scena, di forma di Stato rispetto allo Stato absolutus, allo Stato assoluto, in cui non c'è limite al potere. Certo, la tradizione della rule of law immagina questa misura come un limite esterno, per così dire, alla funzione dell'azione del potere pubblico. Nella nostra tradizione europea-continentale di matrice culturale gheviana, la legge diventa piuttosto la forma del potere dello Stato e così aprirà la porta a quelle deformazioni dello Stato totalitario che tutti conosciamo. Un punto, però, entrambi hanno in comune. L'idea di un rapporto inscindibile tra atto pubblico del potere pubblico e diritto. Il diritto serve a rendere prevedibile e di conseguenza sindacabile, giustiziabile, l'esercizio del potere. La legge nella tradizione europea-occidentale diventa la condizione stessa dei diritti e, primo tra questi, l'uguaglianza perché predefinisce un parametro, uno standard astratto rispetto al quale poter imbrigliare la forza brutta del principe. Il principio di legalità dell'amministrazione è la traduzione operativa di questa preeminenza della legge. C'è un giudice a Berlino, come diciamo sempre ai ragazzi del primo anno. Esiste, cioè, un parametro predeterminato che consente di verificare se l'atto pubblico, per stare al titolo che mi ha dato Giovanna, è legittimo o meno. Qui si tratta ovviamente, anche perché c'è Antonio Ruggeri, di riprendere una bellissima formula di uno dei nostri maestri, insieme a lui, del diritto costituzionale, Vezio Crisafulli, che diceva, nella notissima voce, atto normativo, è la distinzione tra astratto disporre, in linea preventiva e generale, cioè dar la regola all'azione e il concreto provvedere caso per caso. Bene, si dirà, quindi, l'insito quindi nel principio dello Stato di diritto e della legalità dell'azione pubblica, vi è quindi la conseguenza che l'azione del pubblico potere non sia mai, né mai può essere del tutto libera nel senso di arbitraria, ma essa deve sempre rispettare i limiti posti da una norma giuridica superiore. Certo, si dirà, faceva eccezione alla teoria dell'atto politico, dell'alta amministrazione, libero di per sé, nel fine, ma con il passaggio allo Stato costituzionale di diritto, le costituzioni rigide del secondo dopoguerra, si è superata anche questa ambiguità drammaticamente emersa con i regini totalitari, in cui l'uso distorto della legge da parte del potere politico, del partito totale, aveva di fatto annullato i diritti attraverso la legge. E così anche il potere politico, nella sua espressione massima della rappresentanza parlamentare, ha oggi e deve avere un limite, la Costituzione. Un limite vuol dire un parametro e un giudizio. Per venire finalmente al mio tema, direte, ma mi serviva un po' di introduzione, ma avrete già capito dove voglio andare a parare, io penso che questo stacco, questa incommensurabilità tra potere e diritto, oggi sia gravemente messa in discussione. Se l'atto pubblico non può essere arbitrario, ma deve sempre rispondere ad uno standard previo, posto da una norma, questo implica che esso deve avere una motivazione comprensibile. La comprensibilità delle ragioni che spingono il potere pubblico ad agire in un certo modo, ovvero in un altro, è una condizione essenziale dell'esistenza stessa di un atto pubblico. Io qui mi collego a quello che diceva Giovanna, cioè questi atti che vengono giustificati, io sono diciamo uno step prima del ragionamento di Giovanna, nel senso, io penso che il vero problema oggi sia la comprensibilità di certe decisioni. Ovviamente, lascio da parte, rinvio, scritto, è uscito sulla rivista trimestrale diritto pubblico, l'ultimo numero, 2019, un mio articolo su questo e quindi rinvio lì tutto il dibattito sull'idea di volontà, atto, sull'idea di discrezionalità, eccetera. Una delle distinzioni, richiamo solo questo, una delle distinzioni da sempre esistente tra azione dei soggetti privati e quella dei soggetti pubblici sta proprio nel fatto che un privato non ha in teoria un dovere legale di agire ragionevolmente, può anche agire irragionevolmente del suo patrimonio. Nel diritto dei contratti la motivazione non è così rilevante come la causa, che è la ragione giuridico-istituzionale dell'accordo. Va però sottolineato che anche questa distinzione tra diritto pubblico e privato si sta progressivamente attenuando. Quando l'azione del soggetto privato esprima una qualche forma di potere, il dibattito che si è aperto, Giovanna è una dei protagonisti, sui cosiddetti, e Carlo Casonato, sui cosiddetti e Oreste Pollicino, molti dei intervitti quelli che sono intervenuti in questo convegno, e il dibattito sui cosiddetti poteri privati. Quando l'azione del privato esprime una forma di potere, cioè quando esiste uno squilibrio, una asimmetria di fatto tra i soggetti, pensiamo alle big tech, pensiamo a chi ci consente in questo momento di dialogare, che non è certo un servizio pubblico o un soggetto pubblico, ma è Zoom, che è un soggetto privato, peraltro con grandissimi falle di sicurezza e di privacy che tutti conoscono, ma che evidentemente, come dire, ci sopportiamo tranquillamente perché ci è comodo. In questo momento la forza pratica della tecnologia è assolutamente travolgente. E poi penso che anche a Facebook, che si sa che prende i dati da Zoom, gliene freghi poco di quello che stiamo dicendo, però in ogni caso è bene sapere questo. Quando l'azione del privato esprime una forma di potere, pensiamo a questi grandi gruppi, il panorama cambia anche per i privati, scattano doveri generali, obblighi unilaterali, pensiamo a tutto, il corpo del diritto antitrust, del diritto del lavoro, del diritto dei consumatori, del diritto ambientale, della cosiddetta responsabilità sociale dell'impresa, cioè tutti quei settori in cui lo squilibrio, la simmetria, non rende utilizzabile il parametro solito dell'autonomia negoziale dei privati. Allora, se questo è il quadro, dov'è la sfida? Per venire rapidamente al fenomeno a cui intendo riferirmi, farò due esempi in cui si incrociano tecnologia ed emergenza e che spingono a mio avviso l'atto pubblico proprio al confine di quello stato di diritto a cui mi voleva portare Giovanna e direi che c'è riuscita. Il primo è il caso del rapporto di quello che io ho chiamato in quell'articolo che vi dicevo l'amministrazione algoritmica, lo citava prima Giovanna. Il secondo, penso che ne parlerà Federico Pizzetti, Federico Gustavo, è il tema del rapporto tra scienza e decisione pubblica nella attuale emergenza. Amministrazione algoritmica, non ho tempo per dilungarmi, faccio un'estrema sintesi. Questa mia riflessione nasce dal moltiplicarsi di decisioni pubbliche, di atti della pubblica amministrazione, in cui la pubblica amministrazione stessa non chiede alla tecnologia di svolgere attività strumentali, prodromiche, informative, attuative, quelle che normalmente chiamiamo amministrazione digitale, ma sono atti in cui l'amministrazione chiede alla tecnologia di prendere la decisione. Cioè nell'accezione dell'amministrazione digitale, di cui è il codice dell'amministrazione digitale, l'uso della tecnologia informatica è la modalità di documentazione, conservazione, comunicazione dell'atto amministrativo. Nei casi di cui parlo io invece, la situazione è del tutto diversa. La tecnologia informatica non viene usata per redigere l'atto, per conservarlo o per trasmetterlo, ma per determinarne il contenuto. I casi che ho esaminato sono le piattaforme informatiche o telematiche attraverso cui si accettano domande, quasi tutte, se ci riflettete la gran parte dei fondi, ricerca scientifica, ma anche domande di partecipazione ad appalti, oggi vengono gestite da piattaforme telematiche e su questo si è creato un corpus di giurisprudenza tra tarra e consiglio di stato che a mio avviso è molto interessante e faccio rinvio a quel giudizio. L'altro caso divertente è quello della buona scuola e dell'uso dell'algoritmo per assegnare i professori alle sedi di servizio, con tutto il problema che si è creato e diritto di accesso. Qual è la domanda fondamentale che si apre di fronte a questa amministrazione algoritmica? Può un atto pubblico essere sostituito interamente nel suo contenuto da una decisione automatica? Soprattutto può accadere questo quando la decisione automatica per sua natura può non essere comprensibile? Il problema del machine learning di cui parlava prima Giovanna, cioè decisioni automatiche che non hanno una ragione previa, ma che inducono la ragione dalla ripetizione reiterata dell'acquisizione di dati alla realtà e creando correlazioni che spesso sono completamente non esplicabili. Possiamo, secondo esempio, scienze e decisioni pubbliche nell'emergenza Covid, e vengo alla conclusione. Penso che su questo ripeto Federico, poi ci dirà qualcosa di molto più specifico. Io sono rimasto colpito dalla differenza tra la gestione della situazione d'emergenza in Italia e in Francia, ben illustrata nello speciale su BioLow, la rivista di Trento di Carlo Casonato, dedicato all'emergenza. In entrambi i paesi, sia Italia che Francia, sono stati costituiti dei comitati tecnico-scientifici per affiancare le decisioni politiche. Questo perché le decisioni politiche sono state in larga parte, quelle importanti, deferite a questo comitato tecnico-scientifico. In Italia questo simbolicamente è stato rappresentato dalla famosa conferenza stampa a cui tutti noi abbiamo per settimane atteso, in cui all'inizio mi pare che un ministro si sia presentato, se non ricordo male, uno, due, forse qualche sottosegretario, ma normalmente erano rappresentate da un esperto dell'Istituto di Sanità e la protezione civile. Sinteticamente la scienza e la tecnica, la politica scomparsa. All'inizio, ripeto, ce n'era qualcuno, ma poi non li abbiamo visti più. Tra l'altro faccio notare che mentre in Francia, per legge, tutte le decisioni di questo comitato tecnico-scientifico sono disponibili su internet, interamente scaricabili, io le decisioni ai verbali cui fa riferimento la premessa dei famosi DPCM di cui abbiamo discusso in tutti questi mesi, le ho cercate, forse Federico la trovate, io non le ho trovate, ma al di là di questa oscurità, di questa opacità, posto anche che fossero stati pubblicati, sarebbero stati sostanzialmente sindacabili questi pareri del comitato tecnico-scientifico. Le loro ragioni sarebbero state comprensibili e sussumibili rispetto al previo parametro legislativo. O in questi casi qualsiasi devoluzione è per sua natura una delega di pieni poteri alla scienza e alla tecnica. Possiamo, nella pratica, eventualmente ignorarla, come cita sempre Riccardo Luna in quell'articolo. Caso del fumo, sappiamo per scienza che fa male, la politica decide di ignorare questa valutazione e di consentire la vendita delle sigarette. Ma possiamo discuterla? Questa è la mia domanda. Allora, di fronte a questa situazione, quindi venendo un po' indietro rispetto alla domanda che pone giustamente Giovanna, io penso che queste decisioni, cioè le decisioni in cui noi usiamo la tecnologia come modello decisionale algoritmico e quelle in cui abbiamo coinvolto la tecnologia in tutti i due casi, cioè quando chiediamo alla scienza o alla tecnica di prendere una decisione, si crea una sfida nuova per il diritto costituzionale, cioè si crea una sfida radicalmente nuova per la tutela dei diritti e per la separazione dei poteri di cui parlerà, o di cui scusate mi ha già parlato forse Cristina Grisolia, perché che prospettive abbiamo di fronte a decisioni in cui esiste? Chiudo. La prima, la prospettiva di vietare, è la prospettiva adottata dall'articolo 22 del GDPR, è la prospettiva del Consiglio Costituzionale di cui parlava Giovanna, cioè impediamo decisioni automatiche o decisioni incomprensibili che incidano su libertà fondamentale. Auspicabile, mia previsione di attuabilità pratica molto scarsa, secondo me è molto difficile che si riesca concretamente ad impedire questa travolgente forza pratica della scienza e della tecnica, cioè chi si metterebbe a discorso, è troppo semplice per la politica, chi nascondersi dietro i pareri del Comitato Tecnico Scientifico o per l'amministrazione dietro le valutazioni degli algoritmi. Allora secondo me noi dobbiamo adottare quello che io ho chiamato un principio di precauzione costituzionale, cioè a dire noi dovremmo, mutuato dal diritto dell'ambiente. Noi dovremmo, cioè il fatto che noi non sappiamo se una tecnologia può avere o no impatti negativi sulle libertà, non ci può esimere da regolarla, come diceva Giovanni. Quindi io propongo quattro linee di riflessione. La prima, secondo me, la restrizione, cioè il primo punto è la restrizione dell'area in cui facciamo prendere decisioni alla tecnologia. Non dobbiamo automaticamente pensare che su qualsiasi campo che tutto sia algoritmizzabile, che tutto possa essere deciso tecnicamente, che esista una soluzione tecnico-scientifica per tutto. Secondo, la trasparenza nella scelta dei decisori tecnologici, cioè il controllo secondo me in questa fase diventa il controllo su coloro a quali decidiamo di decidere, di devolvere la scelta. Occorre incorporare etica e diritto in questa scelta. La certificazione dei processi decisionali, secondo il metodo delle certificazioni che è stato usato molto nel diritto privato, e poi la co-regolazione tra norma pubblica e autoregolazione assistita dalle autorità indipendenti come forma di regolazione. Queste mi sembrano delle strade per cercare di ricondurre l'atto pubblico in quest'epoca dell'emergenza e delle tecnologie all'interno del confine dello Stato di diritto. Scusami se no. Grazie. Mille grazie ad Andrea. Come vi avevo promesso entro in punta di piedi, visto che mi sono un po' dilungata nell'introduzione, sarò più che asciutta, ma non nel commento, non mi permetto di commentarvi, ma semplicemente voglio ricordare qualche frase più bella che avete detto, quando uno ad occhi chiusi, non so, ascolta una musica o sente qualcosa, ricorda qualcosa di molto bello. Quindi grazie Andrea per averci detto che i privati non devono agire ragionevolmente, ma quando l'azione del soggetto privato esercita un potere pubblico, allora deve essere acquisita all'ambito del diritto pubblico. Mi ha fatto ricordare le private interest government di Street e Schmitter. Leggeremo tutti questo bel scritto sicuramente che Andrea ci ha annunciato. Ho fatto qualche riflessione aggiuntiva sui governi privati in interesse in uno scritto inglese che sta per uscire in un volume curato da Antonio D'Aloia, da Edoardo Raffiotta e da John Hugh della Berkeley University. Ora do la parola, possibilmente sempre nei nostri quindici minuti, evitate che io debba intervenire, a Federico Gustavo Pizzetti che ci intratterrà su decisione politica ed expertise tecnico. Prego Federico. Grazie, grazie Giovanna, grazie per la parola, ma soprattutto grazie davvero per l'invito a questo interessantissimo convegno. Devo dire che il mio intervento è notevolmente agevolato, anzi in qualche modo sarà una ripresa intorno ovviamente minore dalle relazioni che hanno tenuto ieri il professore Patroni Griffi e poco fa il professor Simoncini, perché hanno davvero inquadrato molto meglio di come sarò in grado di fare io e quale ho sviluppato il tema del rapporto tra decisione politica ed expertise ed expertise tecnico. Io avevo immaginato così questa chiacchierata di andare veramente per punti, anche perché ovviamente cerco di rimanere assolutamente nel tempo assegnatomi. Il primo punto, già ovviamente molto meglio di me detto dai colleghi, è che ormai in qualche misura la scienza e la tecnica costituiscono una componente, o se vogliamo usare un termine che è un pochino più utilizzato dai colleghi di diritto privato, un formante dell'ordinamento. Non propriamente è una fonte, come sappiamo, anche se c'è forse un intervento un po' più diretto della tecnica nel quadro normativo che si ha appunto con le famose norme tecniche che hanno però, come sappiamo, sempre, come dire, un rinvio, quindi è una scelta che il nostro legislatore fa in modo diretto di appoggiarsi alla cosiddetta normativa tecnica. Lì allora forse l'expertise tecnico da formante entra in maniera anche più decisa a comporre il quadro normativo. Hanno sicuramente un grosso impatto in via indiretta, lo ricordavi tu stessa Giovanna prima, molto bene, nell'ambito della giurisdizione, ci sono dei casi in cui ancora isolati, ma ieri ne parlava molto bene Antonio D'Aloia, il professor D'Aloia, riguardo anche all'uso di consulenze neuroscientifiche che possono orientare o meno l'azione della giurisdizione nell'accertamento della responsabilità penale o nell'applicazione delle scriminanti, l'uso, come dire, della tecnica nella giurisdizione si fa sempre più intenso, fino al punto in cui, ma questo, come dire, chi lo sa, potrebbe essere addirittura sostituita nel caso delle scelte, come dire, prese sulle recidive, come sappiamo, da macchine algoritme. E poi c'è un'interazione indiretta che appunto con il decisore politico. Qui ci sono stati già, come dire, degli studi molto raffinati, penso quelli di Carlo Casonato, che hanno individuato nell'expertise tecnico un vero e proprio parametro interposto di costituzionalità sulla base della giurisprudenza della Corte Costituzionale che tutti conosciamo. Quindi in questo senso, in qualche misura, la scienza e la tecnica si fanno parametro interposto di ragionevolezza e si era parlato appunto di una ragionevolezza scientifica. Tra l'altro qui, in qualche modo, apro una parentesi che però mi sembra significativa, in un contesto un poco, se vogliamo, mutato nel rapporto tra politica e scienza e tecnica. Perché quella giurisprudenza si era in qualche modo formata sulla base di scelte politico-legislative che erano state fortemente avversate dalla componente scientifica. Penso ovviamente al caso dell'obbligo di impianto dei tre embrioni, ma anche le decisioni assunte rispetto al caso Stamina. Cioè lì la politica era stata in qualche modo accusata di un atteggiamento antiscientifico. Quindi il recupero della ragionevolezza scientifica era anche, come dire, un modo per contenere quella che era apparsa una, appunto, una pura valutazione di discrezionalità politica che andava contro a dati di fatto. Qui invece, rispetto all'attuale pandemia da Covid-19, come benissimo ha detto prima il professor Simoncini, siamo un poco all'opposto. Cioè in qualche modo qui non si sta accusando il legislatore di essere, o il decisore politico di essere antiscientifico, ma al contrario di essere, appunto, in qualche modo condizionato dalla scienza e dalla tecnica, preso in modo oracolare. Leggevo ieri su Luffington Post la scienza sostituita alla religione, la scienza che deve dare delle certezze. Quindi questo è un punto che in qualche modo cambia il rapporto. Oltre che parametro interposto di costituzionalità, la scienza e la tecnica, sia in un caso precedente, l'ho richiamato prima, quello dell'obbligo vaccinale, sia adesso con l'intervento, tra l'altro siamo sempre un po' nell'ambito dello stesso quadro, ovviamente in termini generalissimi, cioè di una protezione da possibili epidemie, non tanto ovviamente sulla scala, quello dell'obbligo vaccinale era molto più ridotto rispetto al Covid, sono stati presupposti dell'azione legislativa d'urgenza, tanto sul decreto legge sulle vaccinazioni, quanto adesso sui decreti legge e poi sugli atti ad essi conseguenti i dpcm. Quindi anche in questo senso, qui la scienza e la tecnica non si fanno solo parametro interposto di costituzionalità rispetto a decisioni maturate in Parlamento, ma si fanno, integrano la fattispecie del 77 dal punto di vista dell'individuazione del caso stesso di straordinaria necessità ed urgenza. Allora qual è un po' il quadro costituzionale del rapporto tra scienza tecnica e decisione politica? È un quadro che era stato già benissimo definito in un saggio di Chieli sulla rivista AIC e cioè l'aggancio non può che trovarsi nei principi fondamentali, cioè in modo particolare nell'articolo 9, articolo come dire a lungo dimenticato, poi in qualche modo ampiamente riscoperto, ripreso come fondamento del diritto ambientale, ma ovviamente l'articolo 9 come sappiamo parla anche della Repubblica che promuove lo sviluppo scientifico e tecnologico. Quindi c'è un favor per la scienza che viene vista però in un contesto più ampio, che si lega se vogliamo allo stesso principio lavorista. Qui il professor Luciani ha dato una lettura antropologica di questo principio, quindi come la scienza e la tecnica e come lavoro, come attività dell'uomo, quindi non il lavoro in questo senso ovviamente salariato o autonomo, ma come attività dell'uomo attraverso le quali l'uomo comprende il mondo nel quale si trova e cerca di trasformarlo. Sappiamo che la scienza è anche libera, anche se non in senso assoluto, in quanto anche le ricerche scientifiche devono rispettare il principio personalista, ci sono scritti di Chiefi su questi illuminanti, e la tecnica se vogliamo ancora più limitata della scienza, non a caso in qualche modo l'articolo 9 dice la ricerca scientifica e tecnica, le due formule sono messe in qualche misura a indicare una maggiore libertà che deve essere data alla scienza, una maggiore capacità di regolare l'applicazione tecnica perché sappiamo molto bene che l'applicazione tecnica può avere utilizzi come dire per il bene o per il male dell'uomo, laddove la conoscenza scientifica tende, a meno che essa non violi la dignità umana, tende ad avere come dire una maggiore neutralità. Questo il collegamento col principio personalista ci richiede di vedere la scienza e la tecnica ovviamente non come opposte al principio personalista, ma come integrate nello stesso, cioè di non vedere, e qui posso ruggere rispetto alla necessità di mettere, di un umanesimo che deve essere davvero integrale, si parla molto di un umanesimo integrale oggi che cerca di assumere anche la scienza e la tecnica all'interno di un contesto più complessivo, ovviamente l'uomo non può essere ridotto solo a fattore biologico, né tantomeno solo a fattore tecnico e deve essere visto in un complesso di relazioni sociali. Questo ci dice un punto interessante, cioè che spesso il decisore politico deve bilanciare non soltanto, come dire, l'interesse alla salute e alla vita rispetto al quale evidentemente la scienza e la tecnica, soprattutto quelle biomediche, hanno molto da dire, ma le deve bilanciare anche rispetto a un apprezzamento di relazioni sociali. Questo si è visto in alcuni elementi della giurisprudenza. È andato un po' questa necessità di tener conto anche dell'opinione sociale, è stata un po' carsica, per esempio in una sentenza sul ricorso al criterio della morte legale si è detto che i dati della scienza medica devono essere bilanciati con la sensibilità comune. Questa idea della sensibilità sociale è rientrata prepotentemente nella più recente giurisprudenza sul ricorso alla pre-creazione medicalmente assistita da parte delle coppie omosessuali. Quindi in qualche modo c'è una dimensione culturale più ampia di cui il legislatore politico, proprio in quanto pluralista e rappresentativo di una democrazia pluralista, deve tenere conto. D'altra parte anche la scienza, qui è stato detto molto bene, noi in qualche modo, forse questo è un po' corretaggio della nostra cultura nazionale, abbiamo uno strano rapporto nei confronti della scienza, appunto talvolta tendiamo a metterla da un canto, talvolta ci affidiamo troppo, immaginando appunto che la scienza possa dare certezze. Tuttavia la scienza dà soprattutto un metodo, poi le stesse certezze sono poste continuamente a riesame, a ridiscussione e da questo punto di vista io non so se la scienza sia o meno democratica, la famosa frase di Burioni, però sicuramente scienza e democrazia condividono tantissimi punti in comune e non è un caso che lo sviluppo scientifico, lo sviluppo della democrazia e dei moderni siano nate dalla stessa temperia culturale. Quindi anche la scienza è sovente incerta e soprattutto quando il fenomeno è nuovo, anche qui l'emergenza scientifica si carica doppiamente, noi abbiamo un'emergenza decisionale, ma abbiamo anche una scienza che sta conoscendo un fenomeno nuovo, che ha i suoi tempi, che non sempre sono compatibili come l'emergenza, quindi noi vogliamo che lo scienziato ci dica già come funziona questo virus, nel suo dettaglio eccetera eccetera, è chiaro che questo non è sempre possibile. Allora è interessante da questo punto di vista che la stessa giurisprudenza della Corte abbia come dire individuato tre possibili approcci, e lo diceva il mongialieri Patroni Griffi, quando il dato scientifico è sicuro, in qualche modo questo giudizio di ragionevolezza e quindi la compressione della discrezionalità politica è maggiore. Quando il fattore è incerto, la discrezionalità politica si espande e poi c'è un modo che io definirei appunto modale, in certi casi si rimette l'apprezzamento al medico, questo è stato fatto per esempio nella legislazione sulla procreazione medicalmente assistita, dove non c'è un dato di assoluta certezza, ma nemmeno di incertezza, si rimette sovente al medico del caso concreto. Si tratta peraltro di, come dire, di scale, di gradazione che non sono affatto ignote ai colleghi, come dire, amministrativisti, che non a caso distinguono ovviamente, questo è un salto, triplo salto mortale, perché è un accostamento di cose molto diverse, ma insomma distinguono tra l'accertamento tecnico, quando la scienza ci dà un risultato univoco, la discrezionalità tecnica, quando in qualche modo la scienza non ci dà un risultato univoco, ma l'interesse è uno solo, e poi la discrezionalità mista, quando l'amministrazione si trova a ponderare una molteplicità di interessi, di cui il fattore tecnico è solo uno, penso alle valutazioni di impatto ambientale, che non a caso non si possono basare, ci dice la nostra giurisprudenza amministrativa, soltanto sul fattore scientifico e tecnico, ma devono tener conto anche di altri fattori. A me pare che in qualche modo la decisione politica, quando ha a che fare col BIOS, con la vita in questo senso, sappiamo tutti a cosa mi sto riferendo, è un po' sempre una discrezionalità mista da questo punto di vista. E qui faccio l'ultimo aggancio, che riprende precisissimamente quanto ha detto Simoncini, che mi trova del tutto d'accordo, l'accountability, cioè come la giurisprudenza amministrativa ci ha detto il merito tecnico, la decisione tecnica non è mai di puro merito, nel senso che non può essere sottoposta, lì è lo scrutinio della giurisdizione. Qui io lo vedo in uno scrutinio più ampio, al dibattito pubblico, al dibattito democratico, di cui il legislatore politico è chiamato a dar ragione in un sistema democratico, come ben sappiamo tutti, ci vuole accountability. È stato detto benissimo, un accountability che qui è come dire coinvolge anche lo scienziato, che non può in qualche modo, permettetemi la battuta, essere democratico al suo interno e in qualche modo invece oracolare da ips ed ips all'esterno, senza tradire la stessa, come dire, i principi della rivoluzione scientifica. Qui non può ammettere che in realtà c'è un dibattito al suo interno, ma poi dà le certezze all'esterno. Quindi anche il tecnico e lo scienziato è chiamato in una democrazia, ovviamente non lo potrà fare come al congresso dei virologi mondiali, ma deve rendersi comprensibile anche alla famosa casalinga di Voghera, perché in qualche modo la sua decisione, la sua expertise si intreccia con la decisione politica. Qui la democrazia possiamo e dobbiamo chiedere al tecnico di darci ragione di fare uno sforzo per rendere comprensibile ai cittadini la base del suo expertise. E questo, e mi avvio, 20 secondi, ho un cronometro, mi avvio all'ultimissimo punto che questo, si parlava di solidarietà. Ecco, qui mi piace richiamare un punto sui doveri inviolabili. In qualche misura i doveri che attengono alla salute, e la salute mi interessa in generale, richiamano anche i doveri individuali di responsabilità collettiva, in qualche modo non ammalarci e non, come dire, ammalare gli altri. Allora, la Repubblica ci richiede dei doveri indelogabili, ci richiede la Repubblica più che noi alla Repubblica, ma se ci chiede dei doveri ci deve trattare responsabilmente, e responsabilmente il consenso informato ce lo insegna, vuol dire darci informazioni comprensibili. Allora non ci si può chiedere un dovere impossibile, cioè un dovere paternalista, diciamo, da minori, ecco, si parla di minorati prima nel pre-convegno. Ci deve trattare in modo adulto. Trattarci in modo adulto vuol dire che ci chiede un dovere, ma ci deve spiegare le ragioni e renderci comprensibili queste ragioni. In questo modo la solidarietà si coniuga, a mio avviso, in maniera armonica con la democrazia, dove il popolo è sovrano e non è subito, ecco, io ho finito i miei 15 minuti netti e vi ringrazio, mi scuso ovviamente per la pochezza, ma di fronte a interventi che hanno trattato benissimo non poteva che essere, come dire, un piccolo riepilogo. Grazie. Grazie a te Federico. No, non posso accettare queste scuse perché quale pochezza? Talmente, diciamo, belle le cose che qui ho avuto l'imbarazzo della scelta sulla frase, mi sono trovata nella stessa condizione dello scienziato, no? Che, come hai detto tu, è incerto interiormente e poi si mostra certo fuori. Bene, due. Allora, il favore per la scienza tecnica, che da fattore extraordine, come cui la fattispecie progressiva rinvia, invece acquista una dignità costituzionale quando diventa elemento interpretativo dell'articolo 77, e poi bella questa immagine dello scienziato combattuto tra, diciamo, le incertezze interiori che vive con se stesso e questa simulazione di infallibilità, di incontrovertibilità della scienza che offre a noi e che, giustamente, almeno andrebbe soddisfatta con un nostro diritto alla piena conoscenza e mi fa ricordare le belle parole della Lorenza Violini sulle questioni scientifiche controverse. Ora, anche per essere stato veramente nei tempi, ed ora la parola a Paola Marsocci con verso quale tracciabilità. Prego, Paola. Allora, grazie Giovanna davvero per questo bellissimo incontro, grazie al professor Bellone e grazie tanto a tutti quelli che hanno lavorato all'incontro, perché sono tante persone che è bene sempre ringraziare. Allora, io parlerò della app e di quello che c'è intorno, diciamo tornando sulla questione che poi è stata toccata trasversalmente sia ieri che oggi, credo io, da tutti, ossia l'impatto della tecnologia digitale sulla coesione sociale e più specificatamente sulle garanzie dello stato sociale. Ecco, questo è un tema ovviamente che oggi appare molto, molto più chiaramente da mettere sul tavolo del confronto, non solo a noi giuristi, in particolare a quelli che magari meno si erano occupati di questi temi, ma in generale a tutti i cittadini all'opinione pubblica. Non vorrei usare un'espressione un po' troppo pomposa, ma credo che forse in questi tempi siamo di fronte all'attentativo di costruzione di una nuova coscienza collettiva. Non dico che questo stia avvenendo in maniera armoniosa, anzi sta avvenendo in maniera conflittuale, come anche è giusto e immaginabile che sia, e questo piccolo grande dibattito sull'app fosse proprio un caso emblematico. Quest'app che io chiamerò forse Immuni, sia perché non si sa ancora come sarà definita, se sarà definita con un nome specifico anche al fine di comunicarla, sia perché ovviamente la questione dell'immunità è proprio, come si diceva adesso, da un punto di vista scientifico, la questione più delicata. E allora partirò dall'ultimo atto di cui ieri ha parlato, per esempio, solo con l'ICIM in maniera esplicita, cioè dall'articolo 6 del decreto legge del 30 aprile, che è entrato in vigore il primo maggio, che appunto disciplina il sistema di allerta Covid-19. voi sapete tutti che questo decreto legge contiene invece norme, soprattutto sulla funzione giurisdizionale, e poi c'è quest'articolo dedicato al tema che ci interessa. Questo è stato un provvedimento molto atteso, e soprattutto molto richiesto, a gran voce nel dibattito pubblico, proprio per mettere al riparo queste operazioni dai dubbi, di una violazione della riserva di legge, in senso sia formale che sostanziale. A livello europeo si era espressa chiaramente il Comitato europeo per la protezione dati, in una linea guida, la numero 31 del 4 aprile, con contenuti che sono stati ribaditi all'opinione pubblica con forza anche dal nostro... ...del bastato, l'articolo 14 del decreto legge, anche questo numero 14, che prevede che le autorità di protezione civile e quelle sanitarie si scambino i dati in quanto necessari, i dati ovviamente di ordine sanitario, ma non solo, ovviamente, in quanto necessari per finalità di prevenzione e controllo dell'epidemia. Questa modalità di tracciamento, che quindi è già previsto, come dirò dopo, più puntualmente nei protocolli, non prevedeva, la norma del decreto legge, non prevedeva che avvenisse anche con modalità digitali, anche se ovviamente si possono usare, si usano anche l'informatica per raccogliere questi dati. Quindi, una volta preso atto delle entrate in vigore di questa fonte primaria, possiamo sgombrare il tavolo, perlomeno questo nostro di oggi, rispetto a questo argomento che invece ha tenuto banco negli ultimi tempi. E possiamo dire, per semplificare, che ci fidiamo dei risultati del lavoro, ci fidiamo che i contenuti di queste disposizioni, con forza di legge, siano pienamente confermibili con il rispetto dell'ordinamento europeo, di quello italiano, quanto al trattamento dati. Non è esattamente così, ma insomma, diciamo che per semplificare ci fidiamo. In realtà, bisogna anche specificare che non siamo ancora pronti a partire con l'app, per varie ragioni. La prima è semplice, di ordine formale, prima di fare entrare in funzione l'app, il Ministero della Salute dovrà approvare, proprio ai sensi del regolamento dell'Unione Europea, la valutazione di impatto, le misure tecniche e organizzative legate alla sicurezza e un'informativa chiara e trasparente da dare a chi scaricherà, come voi sapete, ovviamente volontariamente, l'app. Ecco, in quella informativa ci saranno le specifiche circa le finalità sulle operazioni di trattamento, sulle tecniche di pseudo-nonizzazione, ieri diceva Pollicino giustamente che nulla è perfettamente garantito dall'anomimato e sui tempi di conservazione e cancellazione dei dati. Quindi ciò che si implementa e si dovrà organizzare è un particolare sistema di allerta nazionale. Come funziona? Istituita una piattaforma unica nazionale. Ecco, anche qui, per fortuna, si sono seguite le indicazioni richieste. Si tratta di una piattaforma proprietaria pubblica ad implementarla sarà l'attuale commissario straordinario per l'emergenza Covid e i programmi informatici ugualmente saranno di titolarità pubblica con licenza aperta. Questa piattaforma ha degli attori. Il primo fondamentale è quello che appunto è il titolare del trattamento e del Ministero della Salute. Insieme a lui lavoreranno in coordinamento con lui il Ministero per gli affari regionali e le autonomie e i diversi soggetti come tutti noi sappiamo sono sia pubblici che privati che compongono il Servizio Nazionale della Protezione Civile più l'Agenzia per la Protezione Civile l'Istituto Superiore di Sanità e le strutture del Servizio Sanitario Nazionale anche qui sia pubbliche sia private convenzionate. Quindi il nucleo di questa operatività di questa piattaforma è piuttosto composito. Allora questo è il quadro organizzativo e disciplinato a monte è abbastanza chiaro lo sarà ancora più a breve. Segnalo però uno spunto interessante che è stato appena richiamato anche dal collega Pizzetti cioè il dibattito nutrito che c'è stato tra tecnici in particolare tra ingegneri informatici e giuristi ieri lo ricordavo anche con cose molto interessanti l'ingegnere collega ingegnere dell'Università di Napoli che è intervenuto ed è stato un dibattito come appena spiegato Pizzetti molto orientato a tentare di comunicare ovviamente tra saperi scientifici cercare di comunicare all'esterno con semplicità alcuni punti forti l'ABC di queste nostre prese di posizione ecco da una parte giuridica e dall'altra tecnico ingegneristica informata ecco gli ingegneri informatici tra le altre cose che hanno alcuni di questi hanno fatto emergere in maniera molto chiara è appunto uno dei due temi che vorrei sottolineare all'attenzione quello della chiarezza di intenti delle politiche pubbliche emergenziali e della precisione delle domande da porre a chi predispone soluzioni tecniche quindi hanno lamentato ovviamente questa lamentare la può essere fatta in assoluto non soltanto relativamente a questo caso che non ci fossero richieste rispetto all'utilità precisa che doveva essere procurata da questa app e allora è meglio sottolineare questo la finalità generale di questa app è quella di avvertire allertare le persone che entrano come tutti ormai noi sappiamo in contatto stretto con i soggetti risultati poi positivi allora la questione è ancora una volta distinguere il fatto tecnologico dai fattori tecnologici ossia dalle conseguenze che l'uso delle tecnologie mai neutrale ma neanche i fatti tecnologici sono mai che è stato ripetuto molto correttamente e questa valutazione va fatta possibilmente a monte quindi l'app in questo caso serve a supportare le procedure e quindi si affianca le procedure operative sanitarie di contact tracing che avvengono secondo protocolli standard disciplinati da linee guide dell'ente europeo protocolli epidemiologici quindi il trattamento digitale va a supportare un trattamento che possiamo chiamare per capirci analogico cioè umano fatto come voi sapete da uno staff di persone che lavora al servizio di queste strutture quindi è anche la questione dell'automatismo di cui si parlava prima dell'intelligenza artificiale ecco no queste cose devono essere ponderate poi da uno staff di persone quindi la domanda a monte sarebbe dovuta essere che qualità di dati ci serve per questo esatto scopo come si fa con l'aiuto del digitale a fare meglio il lavoro di questi staff tenendo sempre presente che va fatto il prima possibile ecco l'app ci dice soltanto che si è stati vicini a determinate persone non per esempio in che contesto lo si è stato questo contesto sarà decodificato appunto da questo staff di persone che ovviamente andrà enormemente ampliato cosa che stanno già facendo in altri paesi reclutando personale questo forse sarà una piccola risposta scusate alla domanda di lavoro di questi tempi ma il contesto specifico per esempio il fatto che sia avvenuto il contatto in un spazio aperto molto areato o addirittura o sanificato che ci sia invece un muro sottile che separi ecco tutto questo deve essere ponderato valutato dalle persone poi all'atto dell'intervista paradossalmente anche il tema della geolocalizzazione che giustamente si è sempre detto è indiscutibile che sia maggiormente lesiva della privacy potrebbe entrare in gioco utilmente perciò occorre valutare il fattore tecnologico cioè l'impatto della tecnologia per esempio a valle si potrebbe immaginare di chiedere il consenso a utilizzare a queste persone che vengono sospettate di essere positive sospettate una bruttissima parola ma insomma l'ho utilizzata ormai di chiedere di utilizzare l'app che molti di noi io cerco di farlo il meno possibile già hanno congevole organizzazioni per esempio per la navigazione per i percorsi stradali o addirittura le app sportive in questo modo effettivamente con un patrimonio informativo molto più circostanziato messo a confronto con l'altro possono essere di utilità per chi va a fare questo lavoro di tracciatura manuale ecco come diceva ieri giustamente Pollicino il problema è la violazione del principio cioè la messa in discussione forte del principio di utilità e proporzionalità dei mezzi e di obiettivi dei tracciamenti rispetto a le soluzioni tecniche e di finalità ecco allora il secondo tema vorrei prospettare quello della fiducia ha detto adesso Pizzetti a contabilità allora la fiducia tradizionalmente in questo percorso in questo dibattito anche sull'altra si è definita almeno in due prospettive io vorrei aggiungere però la terza la prima prospettiva è questa la fiducia che dobbiamo nutrire noi nelle istituzioni che stanno implementando queste tecniche di tracciamento e allora anche qua ma sempre molto perché c'è un problema di tempo e per semplificare facciamo che ci fidiamo cioè diciamo che occorre fidarsi perché la normativa messa in campo apparentemente sembra rispondere a tutti gli standard di adeguatezza rispetto alla protezione dei dati e in più c'è la questione della innanzitutto della dichiarazione che i dati saranno esclusivamente necessari ad avvisare gli utenti che ci viene detto nel decreto legge e poi dalla scelta appunto di non centralizzare la raccolta dati in un server diverso ma mantenere decentralizzare i dati sullo smartphone dico solo che ovviamente questo non mette a patto a prova di bomba la sicurezza rispetto ai dati che sono lì contenuti ma comunque appare maggiormente garantissimi il secondo profilo invece è la fiducia che come si diceva anche adesso dovrebbero riporre le istituzioni nei nostri confronti ecco lo Stato fa un investimento un investimento in termini concreti di risorse di organizzazione e come voi sapete a carico appunto come ho detto prima del budget del commissario straordinario per essere di aiuto veramente salve tutte le cose che ho già detto dovrebbe coprire tra il 60 e l'80% dei contatti quasi totale di quelli che hanno lo smartphone in Italia ma io non voglio mettere in evidenza questo punto che ormai è chiarissimo a tutti ma voglio mettere un altro punto quello dell'onere maggiore necessario e giusto in termini di organizzazione della comunicazione istituzionale in particolare del governo su questi temi perché si occupa di queste cose è chiaro che sono tre i profili le finalità una prima è la promozione dei comportamenti la seconda è la legittimazione dell'ente perché attraverso la comunicazione istituzionale si fa si produce legittimazione dell'ente e la terza eventuale ma comunque legittima è di promozione di disabilità dell'ente stesso ecco non occorre che mi dilungo oltre la comunicazione istituzionale in Italia sconta ancora dei ritardi cortissimi quanto a correttezza quanto a consapevolezza e quanto a efficacia e si arriverà come diceva ieri Massimo Bellone a utilizzare questa app magari per convincerci cioè dovranno molto comunicare per convincerci che non si tratta di un'arma di distrazione di massa ieri è stato citato Morozov con la questione del sedizionismo di Stato oppure anche il fai qualunquismo con un'espressione italianizzata ripresa da un informatico di Cambridge che si chiama Ross Anderson quindi per concludere il terzo profilo il terzo profilo è quello più delicato che io vorrei porre all'attenzione il problema della fiducia reciproca cioè dice il decreto legge che il mancato utilizzo dell'applicazione non comporta alcuna conseguenza pregiudizievole ed è assicurato il rispetto del principio di parità di trattamento intendendo credo io da parte delle istituzioni il problema è ci fidiamo privati con privati ognuno degli altri che tipo di impatto avrà sulla posizione sociale ecco è stata scartata l'ipotesi che avere l'app e mostrarla magari con luci verde rosse gialle a noi universitari ricorda qualcosa questa accensione delle luci verde e rosse nelle procedure di valutazione quindi già la tendenza c'era diciamo questa pare che sia stata bypassata però è già chiaro a tutti che coloro che svolgeranno un esercizio commerciale chiederanno di fatto di dar prova in qualche maniera di maggiore protezione tua questo è un chiaro equivalente dei cartelli con contenuto discriminatorio non solo per chi non vorrà ovviamente scaricare questa app ma per chi non potrà per le cause che tutti conosciamo legate al digital di live peraltro se le cose andassero per le lunghe le discriminazioni potrebbero essere anche sul luogo del lavoro sul luogo di lavoro quindi sollevando profili molto molto di maggiore legatezza finisco se ci pensate bene ne viene fuori un appostamento piuttosto io direi balordo chi scarica l'app teoricamente esprime il senso della solidarietà sociale lo diceva prima Pizzetti rinuncia a qualcosa si grava di oneri per il bene suo e per gli altri in realtà si protegge da possibili discriminazioni che si esprimono appunto giusti in senso opposto si voleva contrapporre egoismo con responsabilità invece si contrappone solidarietà ad uguaglianza che poi è la cosa che mi sembrava di cui parlasse stamattina Giovanna parlando di sostanziali diseguaglianze il problema delle diseguaglianze intese in senso sostanziale ecco avrei tante altre cose da dire ma mi taccio mi sembra che questo sia una delle cose magari che andava meglio sottolineata rispetto al dibattito nutrito interessante sull'app grazie Paoletta per averci dato un quadro chiaro non solo da un punto di vista tecnologico ma anche insomma di rischi giuridici anche qui molte frasi due precisamente mi sono piaciute di più ovviamente la mia sensibilità non ho nessuna pretesa di sintesi né tantomeno di miserire il tuo discorso allora la chiarezza di intenti del potere emergenziale che dovrebbe in maniera più puntuale porre delle domande alla tecnica e qui tu giustamente ti poni come domanda la qualità dei dati che dovevano essere funzionali allo scopo e poi ancora questo diciamo contrasto tra solidarietà e disuguaglianza per quanto riguarda la prima domanda a me è piaciuta in maniera particolare e penso come ho già scritto su Micromega qualche settimana fa che qui su un punto l'app non è ancora intervenuta punto importante e cioè una volta che siamo che ho incontrato la persona che era che era infetta beh cosa si fa nei miei confronti mi si confina di nuovo in casa così poi riesco incontro un altro e faccio mentre esci dalla casa oppure finalmente avremo un provvedimento per mano dell'uomo perché oltre i principi che giustamente tu hai richiamato della necessità della proporzionalità ma c'è il principio di precauzionalità se no qua siamo al peggio del peggio cioè si fa ancora passi indietro rispetto alle politiche terroristiche che scandalizzarono molti perché se no qua non puoi togliere la libertà la persona che è in odore di terrorismo ma qui togliere la libertà la persona che è in odore di essere virale vediamo che cosa che cosa che cosa accadrà nel prosieguo poi apriamo anche un bel dibattito se abbiamo tempo ancora grazie Paola do la parola a questo punto a Carlo Casonato Carlo Casonato però non è qui con noi ma nella virtualità e nella grandiosità dei mezzi del mio staff che sono state veramente brave abbiamo l'audio video di Carlo Casonato non può essere qui con noi perché ha avuto un problema ecco grave e di famiglia che speriamo li possa risolvere però noi da stamattina siamo riusciti credo è vero Laura che siamo riuscite ad organizzare l'audio video di Carlo che per alcuni tratti c'ha anche seguito e Carlo interviene su salute e uguaglianza alla prova dell'emergenza prego Laura se può proiettare il video e l'audio si condivido io un attimo lo schermo con l'audio ovviamente allora Maria Francesca invece grazie Maria Francesca la dottoressa di Tuglio stiamo superando noi stesse noi allora si vede e si sente buongiorno a tutti grazie dell'invito a me è stato affidato il compito di lavorare in questi 15 minuti su il tema della salute e l'uguaglianza alla prova dell'emergenza allora è un discorso certamente molto ampio può essere trattato a diverse prospettive una più teorica una più concreta e specifica i contenuti di questo rapporto fra salute e uguaglianza possono essere articolati secondo anche diversi approcci si potrebbe parlare di fonti e forme di governo si potrebbe trattare del rapporto scienza tecnica e diritto intermediato in qualche modo dalla discrezionità politica un altro tema è quello del rapporto regola eccezione il tema del bilanciamento con un diritto anche di questo avete parlato si è parlato già ieri un diritto che tende a diventarsi un diritto alla salute un diritto tiranno un diritto nemico di tutti gli altri diritti al movimento alla circolazione è un nemico anche di se stesso visto che sappiamo un determinante sociale importante della salute sono i nostri stili di vita e certamente doversene stare al chiuso per molto tempo con molte tentazioni anche dal frigorifero è una condotta che in qualche modo va contro la necessità di mantenerci il più possibile di mantenere stili di vita il più possibile salutari molte cose sono state dette già ieri su questo quindi io ho scelto anche per ragioni di tempo di concentrarmi su un caso di studio su il caso non solo di studio ma anche di pratica professionale il caso per antonomasia quello che già ieri si è parlato anche di Guido Calabrese è stato citato Guido Calabrese un caso che impone davvero scelte tragiche che speravamo di non dover più fare il caso è quello della necessità di adottare criteri di selezione di alcuni dei malati per l'accesso alle terapie intensive in una situazione di scarsità di risorse l'accesso quindi limitato alle terapie intensive in situazione di scarsità alcune specificità di questo caso qui non si tratta di fare il consueto bilanciamento fra interessi contrapposti di limitare il diritto di circolazione appunto per motivi di salute pubblica o bilanciare salute e lavoro anche ieri è stato citato il caso Ilva qui si tratta drammaticamente di dare la precedenza ad alcuni malati nell'accesso a cura e salvavita sapendo che in questo modo si dovranno negare ad altri malati le stesse chance di cura ovviamente è una necessità è una scelta che deriva da una necessità drammatica ed estrema a cui però purtroppo alcune terapie intensive di alcune zone soprattutto in Lombardia hanno dovuto purtroppo ricorrere a fronte del shortage appunto a fronte di condizioni di risorse scarse insufficienti per tutti come inquadrare questo caso da un punto di vista costituzionale beh fra le diverse prospettive per inquadrarlo ne propongo due la prima è ritenere questo tipo di scelta una scelta estrema sì ma rientrante all'interno di un orizzonte comunque non sconosciuto alla passi medica e praticato e in qualche modo anche disciplinato la seconda prospettiva invece è quella di ritenere a questa decisione una decisione che sovverte i principi dell'etica medica e del diritto costituzionale comportando anche e mi scuso per la brutalità una scelta di vita o di morte allora nella prima prospettiva si può ritenere che anche una soluzione di questo genere possa comunque essere ricompresa all'interno delle scelte che purtroppo non sono poi così rare in medicina seppure in via estrema la logica non inedita sarebbe quella di purtroppo doversi arrendere di fronte all'impossibilità e questo è appunto un'alternativa che riporta all'interno di quello che alcuni considerano ormai ordinario all'interno della medicina il riferimento può andare a Daniel Callahan che già nel 2000 il libro La medicina impossibile in Italia è uscito nel 2000 rilevava come a fronte dell'invecchiamento della popolazione dei sempre maggiori costi dovuti all'ampliamento della domanda di salute fosse diventato impossibile curare tutti per un tempo indefinito e con i migliori trattamenti possibili la medicina sarebbe così diventata sia efficace ma anche molto costosa e paradossalmente così efficace e costosa da dover essere in qualche modo limitata da questo primo punto di vista la selezione in terapia intensiva costituisce la punta estrema di un discorso che rientra però all'interno di diciamo di uno spettro di pratiche che non è nuovo in medicina semplificando si è cercato si è detto anche che la stessa parola triage in realtà il triage ordinario al pronto soccorso significa proprio selezione la seconda prospettiva all'interno della quale inquadrare questo caso è invece una prospettiva che si che si lega a un vero e proprio mutamento di paradigma rispetto alla pratica abituale non si tratterebbe solo di un aumento di intensità di un aumento di carattere quantitativo della scelta di compiere quanto si tratterebbe di un mutamento qualitativo anche qui in termini molto sintetici il triage qui la prima prospettiva faceva riferimento il triage al pronto soccorso non mette a rischio in realtà diretto la vita dei malati spalma nel tempo richieste dilazionabili il triage in questi casi di emergenza pandemica ha conseguenze invece ben più tragiche e la scelta è quindi qualitativamente diversa e più lacerante comunque la si inquadri nella prima o nella seconda prospettiva la questione di cui sto parlando mi sembra suscita molte problematiche perlomeno vorreste fermarsi su due interrogativi dal punto di vista del diritto costituzionale si potrebbe lavorare anche sull'edontologia e su altri formanti ma fermiamoci ovviamente al diritto costituzionale prima di tutto primo interrogativo possiamo ancora parlare in termini propri di un bilanciamento fra interessi quando la scelta non può cercare il migliore equilibrio fra una ragionevole compressione di un diritto a fronte di una prevalenza proporzionata di un altro diritto ma arriva a pregiudicare le stesse chance di guarigione e di sopravvivenza di un malato rispetto a un altro la questione veramente drammatica quanto crudele è quella di dare una valutazione non dico alle vite delle persone ma all'aspettativa di vita di una persona rispetto all'aspettativa di vita di un'altra persona e in questo senso la scelta il contesto di cui stiamo parlando si allontana anche da altra giurisprudenza costituzionale di riferimento alla sentenza 27 del 1975 in materia di aborto in cui si comunque trattava di persona della madre che già era diventata persona a fronte di chi persona non era ancora diventato quindi il primo interrogativo è quello che mette in crisi forte anche la garanzia del contenuto essenziale che dovrebbe essere comunque garantito la seconda questione il secondo dilemma di carattere costituzionale ha proprio a che fare col principio di eguaglianza tipicamente l'articolo 3 già il primo comma e ovviamente il secondo impone che a fronte di situazioni di particolare vulnerabilità e debolezza la repubblica o chi per essa compia uno sforzo particolare uno sforzo aggiuntivo per permettere l'esercizio del diritto in questione anche qui brevemente a fronte della maggior gravità della situazione clinica di un malato si devono approntare tutti i presidi per salvarlo quindi a fronte di una maggior vulnerabilità si devono impiegare più tempo più dispositivi più risorse maggior numero di professionisti eccetera nella fase straordinaria di emergenza pandemica invece questo rapporto non è semplicemente modificato reso più vicino agli estremi ma rimanendo all'interno di uno spettro mi sembra che in realtà questo rapporto si inverta in una situazione di scarsità di risorse in altri termini emerge la necessità di fare delle scelte nella consapevolezza che ogni tipo di scelta porta a ammettere alcuni malati e ad escluderne altri in questo senso il problema diventa proprio quello che a fronte di una maggior vulnerabilità non si possono adottare impiegare maggiori risorse e questo perché la scelta da fare purtroppo si è dovuta orientare verso criteri in qualche modo nemmeno tanto velatamente di carattere utilitaristico il criterio per l'individuazione dei malati è stato quello della possibilità di recupero della maggior salute possibile per il maggior numero delle persone e assicurare il maggior beneficio terapeutico per il maggior numero di ammalati in questi termini dicevo l'applicazione del principio d'eguaglianza come esercitato come applicato in termini ordinari appare stravolto proprio perché nel momento in cui è necessario lavorare sulla maggiore possibilità prognostica di guarigione bisogna puntare le risorse sui malati che hanno appunto una maggiore prospettiva di cura in questo modo vengono svantaggiati i più gravi a fronte di una maggiore gravità non si può impiegare maggiore risorse ma purtroppo bisogna in qualche modo adottare una sorta di tragica rassegnazione capiamo che questo è un problema gigantesco non solo dal punto di vista costituzionale e però del resto quali alternative si potrebbero proporre sono state proposte alcune alternative la prima alternativa è quella di mantenere il criterio ordinariamente utilizzato quello temporale first come first served mi sembra però che un criterio come quello temporale sia del tutto casuale non sia sostenuto da alcun principio da alcun motivo ragionevole e si avvicini molto a un altro criterio che pure è stato proposto anche se questo non in Italia che è quello paradossalmente della selezione a caso dell'estrazione a sorte dei malati da trattare ma anche questo non mi sembra una scelta ragionevole né in realtà né giudicamente né eticamente neutra come riempire a questo punto questo criterio della maggiore possibilità prognostica di guarigione che pure in qualche modo mette in forte tensione come ho detto il principio di eguaglianza beh come riempire il contenuto è stato dibattuto è stato oggetto di forte dibattito su questo per prima intervenuta la SIART la società italiana degli anestesisti e rianimatoria prende un vivacissimo dibattito all'interno delle società scientifiche dei comitati etici a livello nazionale anche dei giuristi su questo devo dire che sono intervenuti come comitato nazionale per la bioetica a metà aprile abbiamo pubblicato un parere che si intitola la decisione clinica in condizioni di carenza di risorse e il criterio di triage in emergenza pandemica abbiamo utilizzato questo termine triage in emergenza pandemica e abbiamo cercato di mantenere i criteri della scelta da fare il più possibile in aderenza col dato costituzionale col principio di eguaglianza in questo caso per esempio abbiamo escluso di basare la scelta su criteri che si concentrassero su categorie fisse prestabilite a prioristicamente o su requisiti unici teniamo conto che in alcune esperienze si è invece proposto di selezionare i malati sulla base di categorie fisse come quello della disabilità per esempio criterio che noi abbiamo voluto espressamente invece negare o si è cercato di indicare un requisito unico indicativo della possibilità della chance di entrare in terapia intensiva quello dell'età bene noi abbiamo ritenuto questa logica invece da non accogliere di carattere discriminatorio e abbiamo cercato di lavorare su un criterio articolato di appropriatezza clinica in particolare abbiamo parlato di un criterio in cui ogni paziente vada visto nella globalità della sua situazione clinica tenendo in considerazione non un singolo fattore o categorie appunto predeterminate ma tenendo in considerazione tutti i necessari elementi di fattori di valutazione quindi la gravità del quadro clinico la presenza di altre malattie quindi la comorbidità il quadro di terminalità breve eccetera l'età evidentemente fa parte di questo è uno degli elementi di questo criterio ma non è l'unico e va valutato in ragione della sua correlazione con la valutazione clinica attuale e prognostica allora certamente il caso di studio di cui vi ho parlato è dilemmatico richiama effettivamente criteri che si sono dovuti utilizzare in tempo di guerra a ragione con la guerra è per tanti versi forzato e improprio ma in questo ambito anche in guerra si sono dovuti adottare i criteri di soluzione dotati di questa tragicità effettivamente la situazione che si è presentata è stata fra le più drammatiche che si possono presentare non è un caso che la bioetica in quanto bioetica in quanto disciplina sia nata proprio a fronte di dilemmi scatenati da situazioni simili penso al Seattle Medical Center siamo nel 1960 in cui si è dovuto scegliere quale fra i malati tutti i gravissimi avesse la fortuna di essere trattato con i primi macchinari di emodialisi proprio da quelle scelte è nata poi una riflessione che ha portato alla nascita in termini strutturali della bioetica e purtroppo la bioetica come alle volte il biodiritto non può fare la migliore soluzione ma deve accontentarsi a scegliere il male minore due mali in ogni caso però questa è una situazione necessitata che però mette sotto pressione mette in forte tensione principi costituzionali fondamentali come abbiamo visto la tutela della salute la stessa salvaguarda della vita il principio di eguaglianza è bene che queste misure questi ambiti straordinari che mangano straordinari è necessario che le molte forzature a cui assistiamo in questi giorni rientrino il prima possibile il criterio l'adozione di questo del criterio di cui ho parlato è uno di questi straordinari che devono essere abbandonati il prima possibile però penso che ci siano anche degli straordinari virtuosi che dovremmo invece rendere ordinari a cosa faccio riferimento faccio riferimento al fatto che in queste settimane si sono fatti investimenti straordinari in ricerca e in assistenza si è trovato una straordinaria sinergia pubblico e privato da questo punto di vista beh questo è uno straordinario che dovremmo rendere ordinario si è cercato appunto di anche in qualche modo migliorare il servizio sanitario nazionale attraverso una maggiore informatizzazione una maggior condivisione dei dati l'utilizzo dell'intelligenza artificiale come si dice human centered io direi costituzionalmente orientata beh questi sono altri straordinari che sarebbe bene rendere ordinari appunto rendere ordinario un salto di qualità in termini si dice in letteratura di preparedness che non significa solo essere preparati in termini generali ma anche in termini specifici strutturare una filiera trasparente nelle responsabilità e nei compiti con chiarezza di tempi e con chiarezza di metti un altro elemento straordinario che è bene invece ricordare rendere ordinario è il fatto che in queste settimane ci siamo accorti delle conseguenze delle disattenzioni che abbiamo avuto nei confronti degli standard globali di igiene e sanità della tenuta della sicurezza alimentare e stiamo riflettendo e ripensando a livello globale nuovi modelli di sfruttamento animale e ambientale beh queste straordinarie attenzioni sono quelle che penso che dovremmo rendere ordinarie perché un periodo come questo passi presto e non passi in vano vi ringrazio molto per l'attenzione grazie allora molte grazie a Carlo per la sua bella relazione e soprattutto anche auguri per questo problema per un'immediata felice ovviamente definizione del problema e anche qui una bella una bella frase di Carlo vale a dire che non c'è una ragionevole compensazione quando a fronte di una maggiore vulnerabilità non si possono impegnare maggiori risorse e qui mi sembra che sia stata data dalla dall'azione politica una diciamo attuazione alla rovescia dell'articolo tre secondo comma cioè meno a chi avrebbe diritto ad avere di più ma la vera soluzione è forse il momento in cui torniamo alla normalità e non dobbiamo tornare alla normalità alla quale siamo stati abituati cioè un servizio sanitario ridotto ai minimi termini perché poi non gli si possono chiedere i salti mortali lì dove soldi pubblici abbiamo preferito devolvere canali privati che si sono sciolti come neve al sole che in questo momento aiuto non ne hanno dato e allora perché l'emergenza non ti consente di battere cassa non è attività lucrative allora che ritorni la sanità perché la sanità è diritto alla salute al soggetto pubblico non ne faccio una questione se nazionale o locale dico al soggetto pubblico altrimenti poi ci troviamo anche a dover assumere queste scelte etiche giustamente Carlo ci ha posto questa bellissima domanda morale ma forse questa domanda edica se la deve porre il legislatore quando fa i tagli non noi che poi li studiamo bene io darei la parola ora ad Alfonso Vuolo che rifletterà ci inviterà a riflettere su giudice comune ed emergenza prego caro Alfonso grazie si sente perfettamente ti si vede un ringraziamento innanzitutto non di circostanza a Giovanna Deminico e a Massimo Villone per l'iniziativa che hanno assunto e per l'amabilità che hanno dimostrato nei miei confronti nell'invitarmi ad intervenire penso sia doverosa un'avvertenza di carattere generale e cioè che è oggettivamente difficile tenere il passo davanti all'alluvione di DPCM ordinanze regionali contro ordinanze sindacali circolari FAC e così via mi è capitato anche di vederle collezionate dalla laboriosa protezione civile in documenti ai quali è stata data la denominazione di testo unico con questa consapevolezza mi soffermerò su quattro punti a mio avviso essenziali il primo la corte finora non è intervenuta non lo ha potuto fare nella prima fase di contrasto all'epidemia perché questa è stata contrassegnata da un'esplosione di atti nella forma non normativi che come ovvio esulano dalla giurisdizione di legittimità costituzionale non lo ha fatto anche nella seconda fase quando alle proteiforme ordinanze statali e regionali è stata data copertura con decreto legge e poi con legge di conversione per la semplice ragione che non sono state proposte pregiudiziali di costituzionalità non vi è stato il tempo di farlo probabilmente in via incidentale non lo è stato fatto nemmeno in via principale laddove forse era lecito immaginarsi un intervento tempestivo della corte se avesse fatto uso dei poteri cautelari che le sono stati riconosciuti dalla legge 131 del 2003 in verità tra Stato e Regioni pare esservi stato un sostanziale agreement di desistenza dall'intraprendere la via giurisdizionale pur se l'interlocuzione istituzionale è stata spesso aspra e lo è stata specie lungo la faglia politica governo nazionale giallo-verde da una parte regioni con guida di centrodestra dall'altra rispetto a questo quadro si presentano due sole eccezioni la prima recente costituita dall'annuncio del ministro degli affari regionali boccia circa l'impugnazione di un provvedimento della regione calabria con la quale viene accelerata l'apertura di bar e ristoranti la seconda invece risalente agli albori del contrasto all'epidemia mi riferisco ad un'ordinanza della regione Marche di febbraio con la quale venivano anticipate misure che sarebbero poi state riprese a distanza di qualche settimana a livello nazionale chiusura delle scuole di musei biblioteche sospensione delle attività e delle manifestazioni pubbliche la presidenza del consiglio impugna l'ordinanza dinanzi al Tar Marche e chiede al presidente una misura anticipatoria che viene accordata sulla base della motivazione che misure più restrittive non avrebbero avuto ragione di essere in quella regione attesa l'inesistenza di focolai una sola osservazione al riguardo sarebbe interessante chiedersi la ragione di questa strategia difensiva perché è stato adito il giudice amministrativo e non è stato proposto un conflitto intersoggettivo dinanzi alla Corte Costituzionale la questione potrebbe essere facilmente liquidata ritenendo che non venissero in rilievo quote di competenza costituzionale a mio avviso però c'è una ragione di carattere prettamente processuale che potrebbe aver giustificato quest'opzione compiuta dall'Avvocatura dello Stato e cioè l'assenza di un rito monocratico davanti alla Corte Costituzionale anche nei conflitti traenti lì dove è maggiore la dimistichezza della Corte con l'esercizio del potere cautelare in ragione della risalente previsione contenuta nell'articolo 40 della legge 87 del 1953 che come ricorderete ancora la sospensione dell'atto impugnato alla sossistenza di gravi ragioni forse qui potrebbe aprirsi un nuovo scenario alla luce del decreto del 20 aprile 2020 adottato dalla Presidente della Corte Costituzionale Marta Cartabia al paragrafo 1 lettera E si legge che le modalità dello svolgimento delle udienze delle camere di consiglio per il periodo dell'emergenza non si applicano ad eventuali questioni di eccezionale gravità e urgenza per le quali la Presidente sentito il collegio ravvisi la necessità di trattazione immediata secondo punto il quadro appena tratteggiato inevitabilmente conduce a ritenere che la sede della tutela delle situazioni giuridiche soggettive sia almeno per il momento quella della giurisdizione comune ed è possibile un'ulteriore delimitazione di campo segnalando il particolare attivismo del giudice amministrativo fatti salvi gli aspetti penali invece il ruolo del giudice civile sembra essere in un cono d'ombra non si rinvengono filoni particolarmente significativi e tuttavia anche qui potrebbe esserci un'inversione di tendenza attesa la depenalizzazione delle violazioni alle ordinanze restrittive disposta dal decreto legge diciannove che ha stabilito l'irrogazione di sanzioni pecuniare impugnabili dinanzi al giudice ordinario per di più l'attivismo del giudice amministrativo grazie alla sua natura ancipite si sviluppa secondo un duplice canale cioè accanto alla funzione giurisdizionale viene in rilievo anche quella consultiva e a tal riguardo si segnala il parere della prima sezione che è stato propedeutico all'esercizio dell'annullamento straordinario da parte del governo della nota ordinanza del sindaco di Messina il protagonismo dei giudici amministrativi non ha incontrato ostacoli fino ad ora anche perché non è stata messa in discussione la giurisdizione amministrativa non è un dato scontato di poco conto perché se consideriamo le limitazioni ai diritti fondamentali anzi la generale sospensione di alcuni diritti fondamentali evidentemente si sarebbe potuto ragionare anche di diritti soggettivi insensibili all'esercizio di un potere pubblico ma così non è stato e mi pare confermata un'intuizione secondo la quale i diritti inviolabili degradano ad interessi legittimi dinanzi al reddicamento di un potere pubblico al quale si chiede un'attività di bilanciamento di contemperamento tra il bene della vita angaggiato a un diritto costituzionale ed altri interessi pubblici e privati meritevoli di protezione e questo è accaduto anche nella tempere storica che stiamo vivendo per cui mi sembra sempre valido l'insegnamento di Massimo Luciani secondo il quale il potere ha bisogno del diritto per legittimarsi ma i diritti hanno bisogno del potere per affermarsi terzo punto la tutela fino a questo momento si è esercitata nella sede cautelare non c'è alcun dubbio al riguardo e questo ha esaltato uno dei tratti connotativi del sistema di giustizia amministrativa cioè la centralità che nel processo amministrativo assume la tutela cautelare si può dire che in essa si racchiude tutta la tutela che fino a questo momento è in grado di offrire il sistema delle garanzie giurisdizionali ampiamente inteso anzi si può aggiungere che assume un decisivo rilievo in questo quadro la tutela anticipatoria cioè quella che si chiede al presidente del tribunale in attesa della trattazione dell'istanza cautelare davanti al collegio questo perché molti provvedimenti contestati hanno un'efficacia ridottissima nel tempo a volte a pochi giorni per cui una volta decisa con decreto monocratico l'istanza cautelare davanti al collegio specie nel caso in cui vi sia stato il rigetto del decreto la trattazione dell'istanza cautelare perde di utilità e da una rassegna che ho compiuto sostanzialmente si ha conferma di questo con molte cancellazioni della causa da ruolo in questo ha avuto un ruolo decisivo l'articolo 84 del decreto legge 18 che rispetto alle stanze cautelare ordinarie ha imposto uno svolgimento appunto bifasico prima davanti al presidente e poi davanti a collegio per giustificare lo spostamento in avanti nel tempo della trattazione collegiale della domanda cautelare questo per evidenti ragioni di contenimento dell'emergenza epidemiologica non vi è dubbio che nella valutazione degli opposti interessi sia prevasso quello del mantenimento degli effetti del provvedimento impugnato in effetti le ordinanze hanno retto nella loro portata essenzialmente normativa volta alla restrizione della libertà dei simboli per di più nonostante la sostanziale assenza di contraddittorio che caratterizza la tutela anticipatoria in numerose circostanze è stata ritenuta prevalente la funzione preventiva e precauzionale ne faceva cento prima Giovanna sottesa alle misure disposte volte è stato affermato testualmente a prevenire un danno infinitamente più grande di quello avanzato nell'occasione dei ricorrenti di tipo economico essendo state le loro attività imprenditoriali inibite diversamente almeno in parte è accaduto per le singole applicazioni delle ordinanze laddove qualche spiraglio per i ricorrenti si è aperto in ragione della specificità del caso quarto e ultimo punto è dato a stissere anche ad un adattamento degli istituti processuali cioè avvenuto in via normativa con la moltiplicazione dei riti introdotti dei decreti legge che si sono succeduti nel corso del tempo addirittura uno specialissimo limitato al periodo 6-15 aprile molto efficacemente definito rito pasquale ma vi è stata anche ma vi è stata anche una trasfigurazione di istituti processuali in via pretoria emblematico tra gli altri il caso dell'appellabilità dei decreti cautelari monocratici ora l'articolo 56 del codice del processo amministrativo prevede che il ricorrente in caso di estrema gravità e urgenza possa chiedere misure anticipatorie al presidente prima che poi la domanda cautelare sia esaminata dal collegio ed il secondo comma di questo articolo stabilisce che il presidente decide con decreto non appellabile espressamente definito non appellabile non impugnabile e questa impostazione ha avuto conferma anche da ultimo in via normativa perché l'articolo 84 del decreto legge 18 nel suo schema iniziale prevedeva l'impugnabilità dei decreti cautelari monocratici ex legge cioè a prescindere dalla domanda di parte ma questa parte è stata stralciata nella versione definitiva per cui la volontà se leggi mi sembra chiarissima non possono essere impugnati questi decreti e pur tuttavia alcune sezioni del consiglio di stato hanno deciso della ammissibilità di questi decreti in limitatissimi casi ovvero quando è in discussione la irreversibile perdita di un bene della vita che corrisponda a un diritto costituzionalmente garantito ora molto si potrebbe discutere sul diritto costituzionalmente garantito soprattutto in ragione secondo la lettura prevalsa della clausola aperta insita nell'articolo 2 della carta con la conseguenza che farebbero parte del tessuto costituzionale anche i nuovi diritti e quindi con l'ulteriore conseguenza di un raggio applicativo estremamente ampio dell'istituto processuale ma in disparte questi non trascurabili aspetti è forse caso di appuntare l'attenzione sul fatto che l'istituto è di derivazione prettamente pretoria il che non sorprende data l'inarrestabile ascesa del diritto anche processuale a formazione giurisprudenziale ma quello che sorprende è che questa creatività del giudice si realizzi contra legge dato l'inequivocabile disposto dell'articolo prima richiamato ora se la lettera della disposizione mostra la cune nella tutela dei diritti costituzionali il diritto costituzionale pretenderebbe che quel giudice sollevi una questione di legittimità affinché ai sensi dell'articolo 134 la Corte sia nella condizione di poter esercitare il sindacato che le compete per cui si delinea una singolare vicenda e cioè alle limitazioni imposte sul piano sostanziale dai decisori politici a volte preter legge si aggiungono sul piano processuale i riti che i giudici escogitano a voler essere generosi preter legge non escluderei che questa apertura alla impugnazione dei decreti monocratici sia funzionale a che il Consiglio di Stato o meglio i presidenti di sezione del Consiglio di Stato conservino almeno il controllo di quelle decisioni cautelari rese sui fondamentali atti di governo dell'emergenza evitando di confinare il relativo sindacato al presidente del tribunale amministrativo territorialmente competente o addirittura al magistrato da questi delegati del resto se ci si riflette nell'ambito della giustizia amministrativa il Consiglio di Stato rischia di essere relegato in una posizione complementare anche in considerazione della circostanza che di fatto non è coinvolto nel processo di comando inteso al contrasto della pandemia se si considera che tutti gli atti finora emanati sono sottratti al suo parere preventivo vi ringrazio dell'attenzione tante grazie tante grazie caro Alfonso siamo noi onorati della tua presenza non l'inverso non invertiamo i termini faccio riferimento al tuo esordio e allora qui giustamente tu ti sei posto tante domande mi sono permessa anche qua di scrivere tra le tante cose due perché l'avvocatura dello Stato ha preferito adire il giudice amministrativo piuttosto che tentare la via del conflitto intersoggettivo dinanzi alla corte costituzionale peraltro tu dici reso forse più agevole dei nuovi scenari aperti dal presidente e vabbè forse la risposta l'è anche già data poi nel corso del tuo intervento e mi è parso anche molto interessante quando hai fatto il passaggio guardando appunto il case law che si sta formando che in via di formazione di questo diciamo mantenere più o meno invariate l'efficacia del dpcm cioè di non accordare se ho capito bene la sospensiva cosa della quale se ho capito bene sempre tutti lo levi ma perché e perché secondo me sai il giudice amministrativo non si è voluto mettere in una situazione che aveva tanto di diritto ma aveva ancora di più di politica e per questo che ieri alcuni di noi tra questi io non eravamo favorevoli a decisioni così politiche assunte nella forma del dpcm le quali alla fine hanno trovato una serie di via di fuga la via di fuga della giustizia amministrativa perché hanno alzato le mani ma la via di fuga della responsabilità politica e di tutto quello che il controllo politico che sarebbe avuto invece su un decreto legge insomma diciamo degli atti che hanno trovato una zona di immunità dal diritto ma poi su questo voglio sentire ovviamente Antonio Ruggeri a questo punto mi sembra che siamo quasi in tempo darei la parola all'amica e collega Fulvia Abbondante che invece ha riflettuto e ci darà insomma l'essito del suo pensiero su stato di diritto e di data prego Fulvia aspetta devi aprire il microfono ok perfetto Giovanna anch'io ringrazio te il professore Dillone ovviamente senza alcuna retorica per l'opportunità che mi date e in realtà la mia riflessione si è proprio appuntata su le sfide che i big data danno allo stato di diritto però vorrei partire come il professore Simoncini un po' prima cioè da un'osservazione proprio empirica il fatto che noi viviamo in un tempo di emergenza emergenze terroristiche emergenze ambientali emergenze pandemiche e se tutte queste emergenze hanno più o meno tratti comuni da un punto di vista appunto del diritto la necessità di garantire la sicurezza ma anche da un punto di vista individuale la paura collettiva anche quella pandemica ha una caratteristica tutta sua dal mio punto di vista proprio il termine pandemia rinvia tutto è un'esperienza totalizzante cioè coinvolge ogni aspetto della nostra vita e ha subito se mi permettete questo riferimento alla letteratura e alla storia uno strano paradosso cioè la storia tende a rimuovere l'esistenza delle pandemie mentre la letteratura ci restituisce invece capolavori cui fanno sfondo le pandemie e che in realtà per la ragione che le pandemie cioè il contagio da gente patogeno non fa altro che produrre delle trasformazioni significative da un punto di vista economico sociale e quindi ovviamente giuridico e portando a far emergere quelle tendenze che in realtà sono latenti diciamo nel tessuto sociale ora nell'attuale contingenza pandemica quello che effettivamente trasforma tutto è appunto l'uso della tecnologia eh chi più chi meno volenti e anche inolenti coloro i quali erano diciamo abituati all'utilizzo delle tecnologie informatiche sono state costrette ovviamente a utilizzarle quello che forse però forse non è molto chiaro forse rimasto velato anche da tutte le difficoltà i problemi le questioni che si sono poste è che in realtà in questi giorni noi in questi mesi possiamo dire abbiamo regalato letteralmente una quantità di dati e hanno regalato una quantità di dati anche chi prima non aveva appunto confidenza con i dati diciamo con le tecnologie e dunque ovviamente i big data questi dati che vengono appunto elaborati aggregati e che partono ovviamente dai nostri dati personali si sono ulteriormente gonfiati ora mi piace diciamo utilizzare una suggestione che viene dalla letteratura sociologica i big data si presentano oggi come un sesto potere perché il quarto potere la stampa secondo appunto la definizione che ne diede Edmund Mark in tempi lontani il quinto potere cioè la televisione utilizzato appunto dal dal nome di un giornale che venne diffuso a metà degli anni sessanta a Detroit negli Stati Uniti d'America condividono sostanzialmente delle potremmo dire caratteristiche simili hanno appunto il potere di condizionare l'opinione pubblica di in un certo qual modo condurla potremmo dire ma i big data fanno qualcosa di più cioè in realtà hanno la capacità sostanzialmente di riempire un profilo la profilazione è un aspetto dell'utilizzo dei big data ma più la tecnologia più l'intelligenza artificiale va avanti evidentemente più la capacità di individuare aspetti più profondi dell'identità digitale aumenta quindi che cosa diciamo perché un sesto potere perché ovviamente è un potere che viene utilizzato dai governi per la garanzia appunto della sicurezza ma anche come facevi riferimento tu ma anche altri che mi hanno preceduto vengono utilizzati dalle grandi big compasi over the top come si chiamano oggi per ovviamente condizionare quello che può essere l'orientamento diciamo del 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 cittadino e qui quindi secondo me è la prima sfida la prima sfida che pone ovviamente a quella che è la libertà dell'elettore di scegliere ma non soltanto da questo punto di vista io credo che ci sia la sfida la sfida c'è anche rispetto oggi al potere di condizionare le decisioni politiche le decisioni dei governi ma anche sostanzialmente dei parlamenti che alla fine potranno prendere appunto faranno scelte che saranno determinate da quelle che sono gli esiti di queste soluzioni di queste predizioni che danno appunto il big data c'è un altro aspetto che secondo me è importante e da sottolineare e che sfida ovviamente l'utilizzo del big data rispetto allo stato di diritto ed è quello a cui tu facevi riferimento tu il principio di uguaglianza e a questo punto farei appunto alcuni io non ho una visione così ottimistica come quella di Paola Marsocci rispetto a che ci dobbiamo fidare io non mi fido affatto non mi fido affatto non mi fido affatto perché lo facevano appunto rilevare perfettamente Oreste Pollicino riguardo alla necessità dell'utilizzo di quest'app lo faceva notare opportunamente Giorgio Ventre l'accordo sull'utilizzo del bluetooth ma tutto sommato che ci garantisce che quello che ci vengono a raccontare dall'altra parte diciamo dell'oceano sia vero terzo punto e su questo forse vorrei completare quello che diceva Paola il problema non è tanto l'app in sé che appunto è stato sono stati effettuati tutti gli accorgimenti eh sulla efficacia il problema della copertura c'è uno step ulteriore che ovviamente qui non è stato considerato e quello a cui ci facevi riferimento tu io sono stata a contatto con un contagiato entro esco no c'era lo step ovviamente del controllo con il tampone che ovviamente noi per le ragioni che sono state ampiamente dette non abbiamo o non possiamo almeno al momento effettuare ora c'è l'app di tracciamento però quello su cui appunto si è discusso molto negli ultimi tempi è a mio avviso soltanto la punta di un iceberg perché il problema del trattamento dei dati sanitari che in questo momento di confusione rappresentano evidentemente un grosso diciamo appetito per tutti quanti è in realtà un problema molto più ampio ed è un problema che si è posto proprio di recente se diciamo consideriamo il fatto che in data 9 aprile è giunta praticamente da parte della diciamo missione degli Stati Uniti d'America al board dei diciamo dei regolatori dei dati personali una richiesta ovviamente di poter utilizzare i dati appunto che sono stati raccolti all'interno dei singoli stati membri a fine di individuare la possibilità di ricerca e predisposizione di un vaccino la risposta che è contenuta appunto nelle linee guida del 3 marzo del 2020 dei regolatori appunto dal board dei regolatori europei è stata quella appunto di consentire il trasferimento di questi dati anche in assenza di una decisione di adeguatezza e di garanzie adeguate sia da parte delle autorità pubbliche sia da parte delle autorità private in deroga a quanto in deroga sostanzialmente e quindi in base a quanto previsto dall'articolo 49 del GDPR purché evidentemente si tratti di misure temporane ora già la scienza medica è stato detto non dà certezze è una nel caso specifico il virus è qualcosa che non conosciamo i tempi che saranno necessari per sviluppare questo vaccino non possono essere appunto predeterminati e quindi ci sarà questo trasferimento di dati ai diciamo negli Stati Uniti con tutti i rischi annessi e connessi io quindi queste cose le metterai insieme perché evidentemente si tratta del trasferimento di dati sensibili senza alcuna forma di garanzia e allora se facciamo sostanzialmente appunto l'incrocio di questi dati quali sono le conseguenze allora possibilità anonimizzazione che poi consente la reidentificazione dati sensibili che vengono massicciamente trasferiti in uno ad altri dati che sono stati caricati in questi giorni dalle piattaforme e allora sulle piattaforme e allora a questo punto il quello che ne verrà fuori è probabilmente qualcosa di inquietante una sorta di diciamo possibilità di predire prevenire quelle che possono essere le caratteristiche appunto della salute di un soggetto e ci rendiamo conto se tutta questa mole di dati a noi forse interessa un po' meno ma io poi a bocce ferme voglio anche capire che cosa succederà della sanità italiana se va in mano sostanzialmente a grosse imprese di assicurazione significherà che sulla base di questa medicina predettiva quello che avrà condizioni ovviamente di salute sulla base di quello che ha calcolato l'algoritmo molto più diciamo ipoteticamente non vantaggioso e non troverà la copertura assicurativa ma ancora e mi ricollego al bellissimo intervento che ha fatto il professore Casonato è quello che diceva ieri il professore Villone ma se sostanzialmente noi ci dobbiamo aspettare che esista una decisione politica che sarà orientata dall'intelligenza artificiale chi ci dice che le scelte tragiche cui purtroppo siamo oggi abbiamo assistito diciamo in questi tempi non siano sostanzialmente delegate se c'è il medico sulla base di un algoritmo verifica che la quella terapia quella cura quella particolare cosa non sia sostanzialmente conveniente o comunque non produca effetti vero che l'articolo 22 del GDPR dice sempre che le decisioni automatizzate devono ovviamente essere accompagnate dalla valutazione umana ma è evidente lo diceva benissimo il professore Simoncini alla fine è rassicurante affidarsi alle decisioni di una macchina che immaginiamo essere affidabile al di là del fatto che è deresponsabilizzante alla fine insomma queste scelte portano sempre delle dei carichi umani che talvolta si preferisce non assumersi e allora quali potrebbero essere le soluzioni lo individuava bene per certi versi il professore d'Aloia certo l'etica delle macchine cioè l'indicazione praticamente o la formazione di diciamo etica di coloro i quali vanno a programmare perché c'è un dato anche importante da sottolineare è vero che gli algoritmi sono macchine che imparano ma sono pur sempre programmati dagli uomini gli uomini portano con sé un background di pregiudizi di valutazioni errate evidentemente e che trasferiscono nella macchina e che poi noi non sappiamo come poi vengono utilizzati e rielaborati del resto l'indicazione su praticamente il criterio etico diciamo è anche sottolineato dagli stessi studiosi delle scienze dure non si può diciamo programmare per così dire un algoritmo se non si ha una conoscenza approfondita anche delle scienze umane e quindi sicuramente questo può essere una prospettiva ma è una prospettiva ovviamente più ampia da un punto di vista giuridico certo la soluzione che proponevi tu all'inizio cioè quella della conoscibilità dell'algoritmo è sicuramente una delle possibili strade soprattutto quando si va a incidere su diritti fondamentali perché è evidente che il bene o comunque l'attività lucrativa non può sicuramente incidere su un diritto fondamentale protetto in costituzione però io anche su questo sulla selettività cioè sulla scelta di parti diciamo dell'algoritmo da dover rendere trasparente beh forse dovremmo cominciare anche a ragionare sulla possibilità di una totale anche se so che il professore Villone è contrario perché giustamente dice che ci sono alcuni codici alcuni algoritmi che hanno la diciamo particolarità di garantire la sicurezza però quando andiamo a incidere su diritti fondamentali perché dobbiamo tenere il codice fonte nascosto è vero che questo pone poi altri problemi cioè i giuristi dovrebbero essere poi sempre accompagnati dagli ingegneri che dovrebbero diciamo tradurci in termini comprensibili quello che è sostanzialmente il linguaggio tecnico e io concludo perché alla fine questo quadro che può essere sembrato appunto una lettura distopica o comunque una lettura pessimistica in realtà non lo è perché io credo che esistano i problemi come appunto è stato più volte detto è che la scienza non è neutra noi è come la indirizziamo probabilmente sono i tipi di dati che utilizziamo che forse non aiutano o comunque che non sono per così dire utilizzati per garantire il diritto alla salute faccio un altro riferimento qualcuno ieri credo il professore Caravita diceva che in realtà la pandemia era stata annunciata e poteva essere prevista esistono documenti a livello mondiale che sottolineano nel fatto che le pandemie saranno cicliche bene perché non utilizzare big data ai fini appunto di garantire una prevenzione effettiva di quello che è le pandemie future punto due i big data sono necessari o fondamentali per ovviamente il diritto alla salute ma in un altro senso cioè per garantire un'organizzazione una migliore allocazione delle risorse cioè il cosiddetto health management che potrebbe se non altro evitare di trovarci in futuro appunto dinanzi a situazioni gravi grazie grazie applausi reali non virtuali come diceva ieri Sandro allora grazie ovviamente anche a nostra pubbietta e qui è chiara diciamo anche una sua la sua provenienza da un da un maestro e vale a dire dal maestro vale a dire da Salvatore Crisco quando ci ha fatto tutto quello piacevolissimo grandevolissimo diciamo riferimento a un background letterato e di letteratura molto apprezzato altri forse anche molto più di me e poi ho preso qualche spunto ovviamente dal tuo dire certo sei preoccupata giustamente per se i dati dovessero finire nelle mani delle compagnie assicurative ma soprattutto ti poni la domanda queste scelte tragiche che finiscono per essere fatte dal decisore politico sulla base di un algoritmo e quindi noi destinatari che fine facciamo basta solo il diritto a conoscere l'algoritmo sai bene come la penso io in primo luogo dico che deve essere una conoscenza selettiva non tutto a tutti ma una cosa è la conoscenza del destinatario dell'atto e ancora maggiore dovrà essere la conoscenza del giudice altrimenti se non accede al codice sorgente non ha modo di riparcorrere a ritroso la logica dell'algoritmo e deve avere modo invece supportato tecnicamente di rifare quel ragionamento così come non è sufficiente il diritto alla conoscenza ancorché selettivo come dico io ma la partecipazione nel procedimento qui cambia dai canoni diciamo classici della partecipazione al procedimento amministrativo qui è una partecipazione a tre secondo insomma quell'immagine che io do di una privacy a forma di triangolo e cioè deve il soggetto interloquire con chi sta mettendo in moto l'algoritmo per evitare prima che esso arrivi a conseguenze discriminatorie ma di questo io e te parliamo spesso anche a Napoli e poi ho approfondito in questo scritto per la Berkeley a questo punto ringraziando tutti io darei la parola ai nostri interventi programmati quasi tutti al femminile ecco che non si dica quindi che i miei convegni io non rispetto l'equilibrio di genere e qui ci sono tutte graziose studiose eccezione fatta per Alessandro Piccarone che non è affatto grazioso ma è stato studioso allora la parola quindi cinque minuti a testa a Maria Francesca Di Tullio prego Maria Francesca allora buongiorno grazie a tutti e tutte per gli organizzatori e le relatrici allora io ho ascoltato anche con molta attenzione la giornata di ieri e visto che insomma su questo non c'è bisogno di dilungarmi è stato ampiamente descritto come questo contesto emergenziale abbia causato una limitazione delle libertà naturalmente ma tante volte diciamo la professoressa Lara Trucco ci ha descritto questa immagine plastica di questo presidente del consiglio solo nelle decisioni ma in generale si è molto discusso della questione dell'intervento del Parlamento che è stato diciamo di dubbia legalità costituzionale quanto meno ma io volevo soffermarmi su un altro profilo dell'emergenza che è la sua caratteristica che puntualmente si è ripresentata in questo caso di invertire il rapporto regola eccezione rispetto ai diritti cioè mentre normalmente l'assunto sui diritti è la presunzione di massima espansione cioè i diritti si espandono finché non è prescritta un'eccezione in modo particolarmente stringente e nel caso dell'emergenza come è accaduto in questo caso sono state le libertà a dover essere descritte in modo tassativo e questo io ho appena concluso una monografia su questo ho studiato i movimenti di solidarietà che si muovono in modo informale ovviamente in quello che la legge non è stata ancora in grado di cogliere e ho dovuto constatare che in questa fase di emergenza proprio questi movimenti si sono trovati improvvisamente nell'illegalità e si tratta proprio di quei movimenti che tanto spesso si sono dovuti surrogare al ruolo dello Stato di solidarietà soprattutto per quanto riguarda tutte quelle figure di estrema marginalità che non sono state comprese negli aiuti al comune molto spesso perché negli aiuti dai comuni perché molto spesso non sono state proprio censite e quindi mi riferisco soprattutto a quelle esperienze di orti urbani orti sociali ma anche gruppi di acquisto solidali o spazi sociali autogestiti cioè esperienze che si collocano in un certo senso in un grigio della legalità ma che non hanno nessuna dannosità sociale e che improvvisamente appunto si sono trovate a essere illegali e ostacolate nella propria attività quindi si è trovato diciamo anche è messo anche al pettine il nodo oltre che di questo imperfetto riconoscimento della mancanza di un sostegno rispetto alle organizzazioni che avrebbero bisogno avrebbero avuto bisogno in tempi di normalità e in maggior ragione in tempi di emergenza anche di un sostegno pubblico in termini di know-how di piattaforme organizzativo e invece si sono trovate chiaramente sovraccariche questo si è verificato anche in rete se si pensa ai programmi open source appena è scoppiata la pandemia e le conseguenti misure di contenimento ci siamo trovati tutti a cercare delle piattaforme di video chat che non fossero a pagamento e che comunque dessero la stessa sicurezza cioè dessero sicurezza in materia di trattamento dati e privacy e ci sono state molte piattaforme open che sarebbero servite allo scopo ma si sono trovate improvvisamente sovraffollate e molto spesso in carenza di server che potessero ospitare queste piattaforme open source come tali appunto per definizione sono aperte a tutti e a tutte quindi avrebbero potuto consentire effettivamente un servizio in alcuni casi anche un servizio pubblico in modo economico e libero appunto però in molti server si sono trovati sovraccarichi l'amministrazione non esistono dei dispositivi di server di comunità quindi messi a disposizione delle comunità e né l'amministrazione li ha predisposti quindi in molti casi ci si è dovuti rivolgere a quello che già c'era cioè piattaforme proprietarie o private quindi io spero che diciamo uno spunto per l'emergenza e quindi per la ripartenza dopo l'emergenza sia proprio quella di immaginare un nuovo quadro che consente ovviamente innanzitutto di dare un riconoscimento a questo tipo di realtà che nascono informali ma soprattutto anche in un'ottica di uguaglianza sostanziale un sostegno materiale che non sia limitato al semplice riconoscimento formale talvolta oneroso da ottenere come quello dell'attuale codice del terzo settore ma sia improntato a un sistema a un criterio sostanzialistico e quindi a una maggiore accessibilità concludo di nuovo ringraziando per l'attenzione e soprattutto per l'invito grazie 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 molte Maria dottoressa Di Tullio ho apprezzato sia il riferimento che lei ha fatto alla sua monografia che è recentemente chiusa che certamente è un grande impegno il primo grande impegno che uno studioso fa e quindi ecco complimenti per questo lavoro che leggeremo tutti attentamente e poi ecco il suo immancabile riferimento al centodiciotto vedo che ora però chiede anche che questo centodiciotto sia diciamo di più sia di più diciamo utilizzato con un con delle linee guida delle linee preventive un disegno preventivo da parte del soggetto questo mi rallegra darei la parola alla dottoressa Laura Grimaldi prego Laura Buongiorno a tutti mi unisco anch'io ai ringraziamenti doverosi innanzitutto ringrazio la professoressa di Minico la mia mentore il professore Massimo Villone innanzitutto per la bellissima idea del webinar e anche per l'occasione offerta di intervenire allora a margine degli interessantissimi spunti di riflessione che sono emersi in questi due giorni di lavori mi piacerebbe concentrarmi brevemente su un tema magistralmente trattato sia stamattina che nelle sessioni scorse che riguarda il rapporto tra decisione politica e conoscenze tecnico-scientifiche oggi in apertura il professore Simoncini paventava questo rischio oggi molto concreto della presenza sempre più massiccia della tecnica che pervade invade anche ambiti tradizionalmente lasciati alla politica e quindi emblematico è proprio l'appuntamento quotidiano delle diciotto con il comitato tecnico-scientifico in cui non c'è una presenza politica e a tali riguardo oggi sembra che in questa emergenza in questa pandemia da covid che lo stato di diritto sia soggetto a due forze confliggenti e penetranti che sono da un lato l'emergenza il professore Villone ieri affermava i due caratteri che contraddistinguono questa emergenza per il suo non essere né confinato geograficamente in quanto pandemia globale e soprattutto che non conosce nemmeno spazi temporali nel senso che probabilmente dovremmo abituarci a convivere con questo virus almeno fino a quando non avremo un vaccino disponibile e dall'altro della tecnologia da qui anche il titolo secondo me molto efficace di questo webinar dunque quello che e se vogliamo effettivamente rendere la Costituzione come un faro in questo contesto come affermato la Presidente Cartabia dobbiamo ricordare innanzitutto l'inquadramento costituzionale del favor verso la ricerca scientifica le conoscenze scientifiche e tecniche richiamate prima dal professore Pizzetti che ovviamente ha recitato l'articolo 9 della Costituzione nell'ambito dei nostri principi fondamentali ma anche le linee guida che ci sono state consegnate dalla Corte Costituzionale quando ha trattato ampiamente dei temi di bioetica delle biotecnologie ossia del rapporto che sussiste tra tecnica e diritto e decisione politica in particolare laddove alla maggiore incertezza della tecnica e della scienza vi è anche una maggiore discrezionalità del decisore politico questo non deve essere visto in senso negativo e qui richiamo le parole di Iza Grebeschi che pochi giorni fa rilasciato un'intervista in cui ha affermato proprio questo ossia che laddove vi è una incertezza da parte della scienza è un bene per la democrazia non è un male perché se la scienza ci consegnasse delle verità assolute e indiscutibili allora il decisore politico non potrebbe far altro che obbedirvi a criticamente e invece non è così perché laddove c'è una manovra di descrizionalità politica innanzitutto viene in rilievo quella tensione richiamata ieri dal professore Patroni Griffi che ha citato Max Weber la tensione risolta tra rigore di scientificità dal lato e il riconoscimento di limiti che la scienza ha quando è chiamata a dettare regole sull'organizzazione umana ma questo ampio spazio del decisore politico e della sua discrezionalità si accompagna anche ad una responsabilità politica responsabilità che il decisore politico ha nei confronti di noi cittadini e questo mi si consenta anche il parallelismo con il procedimento decisionale algoritmico cui prima ha fatto riferimento bretantemente alla professoressa di Minico laddove ha affermato che nell'ambito dello statuto dei diritti digitali è necessario riconoscere anche l'intervento umano il diritto al cosiddetto human in the loop e allora parallelamente questa responsabilità politica consente di riscrivere il rapporto tra tecnica da un lato e politica nell'ambito del circuito democratico rappresentativo che ci è stato consegnato dai costituenti ma a tal proposito ritengo necessario recuperare due elementi fondamentali la centralità del Parlamento che in questa emergenza è parso come una compresenza più che una presenza oppure una presenza un po' silente e quindi ripristinare il suo ruolo centrale nell'ambito dell'architettura costituzionale e istituzionale che sia effettivamente rappresentativo come giustamente affermava ieri il professore Massimo Villone ma allo stesso tempo una istruzione un'informazione dell'opinione pubblica che sia infatti istruita sia da un punto di vista digitale quindi tecnologico prima il professore Ruggeri anche in maniera simpatica richiamava questa esigenza e allo stesso tempo nei confronti della scienza grazie mille a tutti grazie anche al comitato organizzativo per il supporto di questo evento ripasso la parola alla professoressa grazie allora grazie anche a Laura anche lei ci offre degli spunti sui quali rifletteremo il rapporto tra l'ampio spazio di discrezionalità e la responsabilità politica ammesso che se l'assumano e poi questo questo human in the loop al quale so bene perché spesso studiamo insieme Laura è molto affezionata bene e ora la parola alla dottoressa Francesca Niola prego Francesca buongiorno tutti mi vede? sì 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 buongiorno a tutti ringrazio mi unisco ai miei colleghi nel ringraziamento alla professoressa Deminico al professor Villone e anche a tutti i relatori per aver offerto a noi giovani studiosi quegli approfondimenti di cui necessitiamo per la nostra per la nostra crescita vorrei solo brevemente porre un problema relativamente all'app immuni cioè sottolineare come in realtà l'utilizzo seppur efficace dell'app non imponga però al soggetto allertato di essere entrato in contatto con un positivo covid poi di sottoporsi al al tampone ehm mi ricollego per un attimo soltanto al richiamo alla fiducia espresso dalla professoressa Marsocci cui mi sia concesso dare un grato saluto l'app immuni è utile sicuramente per la ricostruzione della catena di relazioni dei soggetti risultati poi positivi al covid ma comunque si basa ehm sempre su un dato di natura probabilistica il terreno di gioco è chiaramente quello del rapporto tra precauzionalità e proporzionalità delle misure ehm alla luce della tutela del diritto alla salute ma come interesse ehm collettivo e quindi mh una domanda si riesce a galvanizzare questa componente eh solidaristica che è fondamentale nel diritto alla salute basandosi su un dato puramente probabilistico ehm in questo caso credo sia opportuno fare una differenza con l'obbligo eh vaccinale mh su questo esiste un granitico figlone giurisprudenziale le cui le ultime pronunce sono le sentenze eh della Corte Costituzionale cinque del duemiladiciotto e centottantasei del duemila eh del duemiladiciannove ehm in questo orientamento la Corte afferma a chiare lettere che pur posto il divieto per le regioni di non aggravare la soia minima richiesta dalla dalla legge statale e pur contemperando quegli ehm quei valori eh fondamentali mh come la libertà di autodeterminazione del del singolo inerente alla scelta ehm delle delle cure sanitarie alla salute la tutela della salute eh individuale ma in realtà l'obbligo vaccinale è corroborato da un vero e proprio dovere di solidarietà quale momento ci dice la Corte di equilibrio tra l'autonomia individuale nell'esercizio del diritto fondamentale alla salute e la misura di un legittimo intervento autoritario in vista del perseguimento di un interesse generale eh ad un efficace ad un efficace profilassi questo richiamo questo rapporto realizza perfettamente quel rapporto quel paradigma tra precauzionalità e proporzionalità di cui ehm anche oggi stiamo stiamo discutendo beh diversamente succede per il trattamento dei dati tramite eh contact tracing perché eh la natura probabilistica del dato per cui l'utente che riceve la comunicazione di allerta insieme alla sua volontaria però accettazione di scaricare l'app al trattamento in forma aggregata dei dati lo sentivamo ehm anche prima in forma eh pseudonimizzata l'assenza di una specifica previsione eh normativa non assicurano però che l'utente si sottoponga poi successivamente al al tampone in altre parole eh nel bilanciamento tra l'autodeterminazione del singolo e il dovere di tutelare la salute la salute collettiva eh l'utilizzo del contact tracing nei termini descritti dal decreto legge del trenta mh aprile galvanizza solo il primo dei eh di questi interessi e mh mi sia consentito eh rimangono in piedi quelle obiezioni sottolineate anzitempo dalla professoressa De Mini con il suo articolo virus e algoritmi impariamo da una esperienza dolorosa edito da Micromega il tre aprile nel momento in cui quando lei sollevava mh ecco a chiare lettere che ehm l'esito del dell'algoritmo poi si risolva in una decisione esclusivamente automatizzata oppure si chiedeva se venisse limitata a essere una parte di un processo volitivo umano eh che l'algoritmo però ehm di fatto o assume o supera concludo dicendo che sicuramente qualora si verificasse quanto appena appena detto si eluderebbe ehm quel principio di reciprocità e parità degli interessi primari mh cristallizzato nella celeberrima sentenza della Corte Costituzionale ottantacinque del duemilatredici nota come sentenza IVA ehm la quale ricorda che non esiste una primazia tra gli interessi fondamentali bensì che questi devono essere sicuramente oggetto di bilanciamento da parte del legislatore legislatore che ad oggi risulta ehm come diceva Laura compresente nel processo decisionale grazie anche le anche a lei i miei complimenti cara Francesca Francesca Niola la dottoressa ci ha ricordato non solo cose eh a noi note ma sempre utili sempre utili ricordarle ma c'è anche offerto spazi nuovi eh di riflessione quando ci dice che questo bilanciamento è stato galvanizzato cioè il piede è stato spostato sull'acceleratore solo su uno dei due termini e quindi che è stato iluso il principio della parità degli interessi uno è tirannico e gli altri sono tutti debolmente recessivi tutto ovviamente musica per le orecce credo di eh di di Antonio Ruggeri ora la parola ancora un'altra studiosa la dottoressa Mario Refica eh sempre cinque minuti prego Maria eccomi buongiorno a tutti grazie grazie alla professoressa Deminico e al professore Villone per questa occasione di di incontro e di dialogo eh ne approfitto anche per salutare la professoressa Grisolia che ho visto in collegamento anche stamattina e che ho ascoltato ieri con cui ho discusso la tesi di dottorato ormai due anni fa a Napoli e salutare ovviamente anche tutti i relatori ringraziandoli per i vari interventi eh oggi volevo condividere con voi due riflessioni riprendendo quello che ho ascoltato da alcuni di voi eh la prima riflessione ad oggetto un parallelismo tra quello che è il rovesciamento del sistema delle fonti è stato ampiamente detto appunto si è parlato di atti sublegislativi quali i dpcm in luogo di atti eh legislativi o comunque aventi forza di legge quali i decreti legge accanto a questo rovesciamento però abbiamo assistito anche a un rovesciamento se vogliamo dell'ordine logico formale cronologico anche del decreto legge e mi riferisco a un caso particolare cioè al decreto legge del trent'aprile il ventotto duemilaventi che appunto ha disciplinato questa app di tracciatura dei dei contagi ecco seppure questo decreto legge sia stato formulato in termini generali e astratti ha dissimulato a mio avviso l'intento di introdurre una eh normativa specifica appunto per un'app prescelta e per un fornitore prescelto sappiamo che l'app è immuni e sappiamo che il fornitore prescelto è la spending spoons quindi che cosa abbiamo avuto prima la scelta dell'app e del fornitore poi il decreto legge che ha indicato le varie eh misure cui attenersi eh qual è la domanda a valle di questa riflessione eh è che come aveva suggerito il professore Azzariti anche ieri eh se è vero che un fatto di necessità si impone sul diritto il mio timore è che le eccezioni inneschi sempre nuove eccezioni eh e quindi eh proprio in un momento in cui forse che quello dell'emergenza la costituzione come ci ha ricordato anche la presidente della consulta Marta Cartavia dovrebbe fare da bussola nel mare appunto alto della della crisi quando dobbiamo navigare appunto in questo mare eh difficile con il rischio che anche quando sarà ripristinato il tempo ordinario eh sarà sarà ormai troppo tardi perché qualcosa è già stato perduto eh aggiungo una seconda riflessione che ha ad oggetto il bilanciamento tra diritti in particolare due che mi sono a cuore particolarmente va bene quello alla privacy io mi occupo sono avvocato eh presso lo studio Red for Legal di Milano mi occupo di privacy e di protezione dei dati personali quindi il bilanciamento tra sicurezza e privacy e sicurezza e trasparenza per quanto riguarda il primo eh il primo bilanciamento eh sappiamo che il regolamento ha consente al trattamento dei dati sanitari eh lo ha scritto la professoressa De Minico eh ne ne abbiamo ampiamente eh dibattuto discusso e lo prevede il regolamento che appunto prevede una deroga quindi è possibile trattare i dati purché lo preveda una disposizione legislativa e eh con determinate garanzie e cautele eh quello è infatti è intervenuto il decreto legge che ho citato prima quello che però manca permettetemi sono le misure di garanzia che il garante avrebbe ha dovuto avrebbe dovuto avrebbe dovuto adottare sappiamo che il garante è in regime di prorogazio è quasi un anno dal diciannove giugno è scaduto il collegio quindi diciamo al sistema di garanzia si aggiunge un ulteriore deficit ricordiamo anche che non è eh la sola ehm autorità eh ecco in regime di eh di prorogazio forse perché il Parlamento permettetemi di citare il professore Frosini in un articolo è più eh attento a individuare chi per eh età anagrafica possa ricoprire il ruolo di presidente piuttosto che eh per eh per età diciamo eh anzianità di competenze ecco anzianità di competenze scientifiche eh chiusa questa parentesi ehm senza entrare poi nel merito eh di quelle che sono le criticità che a mio avviso presenta il decreto legge ventotto duemilaventi eh consentitemi soltanto eh di citare il tema della decentralizzazione e della centralizzazione purtroppo il decreto nulla ci dice ma ci dice che i dati saranno anche salvati sugli smartphone quindi non esclude un sistema centralizzato non ci dice nulla sulla pseudonimizzazione dei dati chi eh la eseguirà questa pseudonimizzazione quindi escludiamo che siano trattati dati anonimi ma dati pseudonimi eh e in terzo luogo abbiamo avuto un'indicazione sull'apertura del codice non sarà un'apertura totale ma un'apertura parziale del codice sorgente eh di questo applicativo ehm chiusa quindi la parentesi di questo decreto legge eh vorrei invece adesso eh aprire un ulteriore eh interrogativo eh sul bilanciamento di un altro diritto quello che vi anticipavo prima sì prego no no niente dico a un minuto però apra pure giusto 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 velocissima eh bilanciamento tra eh sicurezza e trasparenza sempre riprendendo questo decreto legge il famoso ventotto duemilaventi si legge che saranno destinati all' implementazione della piattaforma circa un milione e cinquecentomila euro quindi spatiamo il mito della gratuità di questo di questo applicativo ora se io volessi avere accesso ai contratti di appalto mi trovo dinanzi eh quello che mi dice il decreto cura Italia del diciannove marzo che invece mi dice che il mio diritto di accesso sia esso documentale sia esso civico sia esso civico generalizzato è stato sospeso fino al trentuno maggio eh di questo di questo anno ecco la mia riflessione era questa non soltanto noi ci troviamo dinanzi a un diritto alla trasparenza che è un diritto monco perché la natura precettiva del principio di buon andamento eh di cui all'articolo novantasette della Costituzione imporrebbe la piena visibilità delle informazioni della pubblica amministrazione quindi un regime di open data ma abbiamo un eh un diritto di accesso alla trasparenza che prevede che sia sempre il cittadino a bussare alle porte della casa di vetro per vedersi di aprire dalla amministrazione che sia operosa che in questo caso però è completamente azzerato azzerato quindi al di là di quella che invece dovrebbe essere il nucleo essenziale protetto e quindi l'essenza del diritto così eh che si sottrarrebbe non soltanto al revisore costituzionale ma eh appunto come prevede anche la carta di Nizza l'articolo cinquantadue della carta eh di eh di Nizza eh ho concluso la mia la mia seconda riflessione quindi vi restituisco ulteriori riflessioni. Grazie ancora per per l'occasione. Grazie a lei Maria ha fatto bene a prendersi anche questo minuto in più perché poi insomma qua gatta cipova scusate eh questa mia diciamo questo mio parlare un po' un po' basso a questo punto eh perché questa app tanto gratuita alcuni di noi ecco la dubbio l'avevano sollevato poi gratuita non è ma ho apprezzato molto anche eh diciamo la parte iniziale quando lei dice che qua c'è un' inversione di rotta prima hanno deciso tutto e poi a seguito delle reazioni di alcuni di noi hanno deciso di trasferire tutto nel decreto come se il decreto potesse essere una sorta di sanatoria delle illegittimità poste prima eh sulla scia forse della delle degli illeciti edilizie eh la stessa cosa hanno fatto con i due decreti il sei e quello e quello successivo e va bene andiamo ora invece ad Alessandro Piccarone prego i suoi cinque minuti prego Alessandra buongiorno buongiorno a tutti eh intanto mh vorrei ringraziare sia la professoressa Deminico che il professore Villone per per questa per l'idea che hanno avuto e per la possibilità che eh ho di poter intervenire e mh dunque il le mie riflessioni eh si articolano mh su mh punto principalmente che era stato eh ieri accennato anche dal professore Luciani cioè questa pandemia sta in qualche modo accentuando le eh le diseguaglianze tra le persone perché il professore Luciani diceva chi ha una bella casa vive meglio la quarantena rispetto a chi non ce l'ha abbiamo visto anche con la professoressa Massocci che in realtà anche per il dopo questo potrebbe generare un problema cioè che succede se ehm se decido di non scaricare l'app o che succede se non ho la facoltà non ho uno smartphone adeguato per scaricare l'app immuni o quasi immuni come diceva la professoressa Massocci e la realtà è che potrebbe succedere potrebbe accadere nella pratica che in qualche modo io possa essere discriminato possa essere in qualche modo emarginato ci può essere si può sviluppare una cultura del sospetto un po' come quando ehm come quando il professore Rodotà parlava nel duemilatredici dell'uomo di vetro cioè di chi dietro a una legittima eh volontà di eh di come dire avere una tutela della riservatezza c'è magari rischiava di passare per un cattivo cittadino ehm noi qua dobbiamo appunto capire se la cessione di di questi dati possa effettivamente eh contribuire a essere un gesto di solidarietà di di tutela collettivo oppure oppure no è un aspetto questo sul cui dobbiamo un po' discutere ehm sul tema mi permetto anche di segnalare un un'intervista che è apparsa questa mattina sul mattino a Erri De Luca che segnala appunto la possibilità di una un che scoppi una bomba sociale almeno credo che Erri De Luca si riferisse in particolare al meridione ma credo che la la tematica possa essere eh estessa un po' anche a tutta Italia ehm quindi mh la mia riflessione di di massima eh mira al fatto che la politica di almeno su questi temi come per esempio sul tema mh che faccio se eh se l'applicazione mi avvisa che sono entrati in contatto con chi è positivo al virus per esempio la professoressa De Minico mh saggiamente suggeriva di applicare un principio precauzionale mi sembra un'idea condivisibile ma ci deve essere secondo me un intervento su questi temi mh della politica ci deve essere un intervento della politica anche perché eh credo eh credo che eh il principio di uguaglianza almeno sotto il profilo sostanziale debba essere in qualche modo tutelato quindi la politica deve eh dovrà evitare per questa seconda fase eh ed è un compito che può a cui può temperare dovrà evitare ehm in ogni modo tutte le possibili disuguaglianze che derivano da differenza di ricchezza e quindi dall'impossibilità magari di eh scaricare l'applicazione ma anche mh disuguaglianza sotto il profilo sociale evitare che in qualche modo ci sia chi per scelta o così per convinzione decida di non utilizzare l'applicazione in qualche modo quindi cercare di porre rimedio e di ehm e di di tutelare un po' anche tutte le diverse esigenze e dichiarire fino a che punto mh si tratti di eh un gesto di solidarietà collettiva quello di eh mettere a disposizione mh la la il dato di essere venuti a contatto con chi è per esempio è positivo al virus ehm quindi mi aspetto per le pro nelle prossime settimane auspito più che che ci sia un intervento ehm particolarmente rilevante della della politica su questi temi e niente mi limito così evito anche di sforare il limite dei cinque minuti e voglio ringraziare tutti voi per per l'attenzione per avermi ascoltato e mh con questo vi saluto. Grazie Alessandro per essere stato nei termini per avermi riconosciuto una saggezza che non credo essere una mia qualità e per il riferimento molto bello all'articolo che avevo letto invece di Henry De Luca anche lui sulle asimmetrie per avere rimesso in luce alcuni punti deficitari eh di quest'app e a questo punto io darei la parola all'ultimi degli interventi programmati alla dottoressa Erika Vaccaro. Prego Erika. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Sì sì. Allora vorrei innanzitutto ringraziare gli organizzatori quindi la professoressa De Migo e il professore Rillone per aver organizzato questo evento. Ho ascoltato con molto interesse gli interventi e vorrei esporre brevemente alcune considerazioni su argomento che sono ampiamente trattato sovrere che oggi oltre che precedentemente da alcuni miei colleghi ossia eh l'applicazione di contact tracing di cui ancora non sappiamo il nome. Eh la mia prima considerazione in realtà riguarda le modalità che hanno portato all'adozione di questa applicazione è stato già detto eh da altre persone prima di me mi limito semplicemente a dire che come sottolineava prima la professoressa De Minico l'intervento pubblico dovrebbe orientare l'attività verso determinati fini con il contenuto prescrittivo e in questo caso invece il procedimento sembra sia stato invertito perché la task force istituita dal ministro Pisano in realtà non si è limitata a fare una valutazione tecnica sulle applicazioni che erano state presentate ricordiamo più di trecentoventi applicazioni ma ha operato anche una selezione di queste applicazioni quindi si è andato ben oltre quella che poteva essere una valutazione solo di tipo tecnico ma eh ha operato un'attività che eh sarebbe dovuta aspettare al al pubblico e invece il procedimento è stato invertito. Per quanto riguarda il contenuto invece del decreto credo ci siano moltissime questioni aperte ehm vorrei aprire una diciamo brevissima parentesi sul funzionamento perché eh si è scelto di utilizzare un'applicazione che eh possa tracciare le persone non con il GPS ma con il prodotto. Il GPS avrebbe sicuramente facilitato questa operazione di tracciamento dei dati ma eh avrebbe avuto anche un impatto maggiore sulla nostra privacy e quindi si è scelto di operare il bluetooth come tecnologia meno eh invasiva e soprattutto di utilizzare un sistema decentralizzato. Ieri il professore mentre diceva come il il fatto che Google e Apple abbiano sostenuto che ehm in questo caso era preferibile utilizzare un sistema eh di tracciabilità di dati distribuito e non centralizzato non poteva che essere una garanzia che eh non c'era un obiettivo di raccolta dei dati da parte di Google e di Apple. Io credo che invece in realtà il problema la questione sia proprio all'inverso e che in realtà tutta questa attenzione posta sul tema da Google e da Apple eh sul tema della centralizzazione dei dati proprio eh eh un tema a loro che a loro dovrebbe essere molto caro in realtà eh ci può sembrare come dire un po' sospetta e ci fa pensare che queste multinazionali possono avere un interesse specifico all'accesso di questi dati che vengono scaricati tramite i loro sistemi operativi. Ora per quanto riguarda il funzionamento eh si è detto che eh da quello che possiamo ricavare da eh contenuti pubblicati dalla task force ehm verranno scambiati dei codici alfanumerici tra eh le tra le applicazioni. Questo significa che eh se il dispositivo A viene in contatto con il dispositivo I invia dei codici alfanumerici casuali che non sono ricollegabili al suo telefono e qualora il dispositivo A appartenesse una persona che poi successivamente si è scoperta essere stata contagiata. A quel punto però è necessario che i dati che sono decentralizzati vengono portati su un server centrale perché bisogna stabilire i criteri eh con il quale puoi avvisare le persone che sono entrate in contatto con questa persona. Quindi per quante volte siamo entrati in contatto, per quanto tempo e questo criterio ovviamente non può essere fatto in maniera decentralizzata ma necessariamente in modalità centralizzata. E qui veniamo al punto in realtà eh lasciato in sospeso a mio giudizio dal decreto ventotto del duemilaventi perché all'articolo sei ci dice che eh il trattamento effettuato per allertare i contatti sia basato su un trattamento di prossimità di dispositivi resi anonimi oppure ove non c'è non ciò non sia possibile pseudonimizzati. Io credo che sia molto complicato garantire che il dato trasferito da un dispositivo a un server centrale sia un dato anonimo probabilmente verrà criptato quindi si utilizzeranno dei sistemi ma chiaramente rientreremmo in un concetto diverso che non è quello di dato anonimo ma quello di dato pseudonimo così come individuato dall'articolo quattro eh del del GDPR perché ovviamente una volta che il dato è stato criptato è possibile andare a risalire alla fonte di quel dato cioè dal cellulare eh dal quale proveniva quel dato semplicemente attribuendo un ulteriore dato che probabilmente sarà una chiave di criptografia e quindi credo che anche su questo il il governo dovrebbe fare una maggiore chiarezza perché eh le disposizioni previste nel decreto legge non non sono chiare su questo punto e quindi una maggiore attenzione su questo e vorrei infine sollevare una questione relativa all'utilità dell'utilizzo di questi dati se ehm si è discusso molto della percentuale di persone che dovrebbero scaricare questa applicazione nel sessanta per cento il ministro Pisano ha detto che sarebbe sufficiente anche il trenta per cento però direi che al di là di questi numeri ehm la professoressa Marsocci prima diceva il principio di utilità e proporzionalità dei mezzi rispetto a alle finalità non ce ne dimentichiamo rispetto a queste applicazioni io mi credo mi chiedo come facciamo a valutare l'utilità del mezzo se non è chiaro che cosa succede dopo quindi il modello cosiddetto Corea del Sud che ha funzionato molto bene si è associato un ricorso eh massiccio dei tamponi ma in Italia che cosa faremo che qual è qual è eh diciamo eh l'obiettivo ehm io eh temo che in questa per come è stata predisposta questa applicazione ci troveremo poi lasciati in una condizione di eh isolamento fiduciario per tornare sul concetto di eh di fiducia e quindi concludo dicendo che si è parlato molto di diritto alla salute eh però io direi che eh bisogna porci anche qualche domanda relativa alla salute mentale delle persone che già è stata ampiamente messa alla prova in questi duri mesi di quarantena e quali reazioni potrebbe avere una persona che riceve una notifica sul proprio telefono con cui la informano eh di essere entrata in contatto con un soggetto positivo se poi non gli dà la non gli si dà la possibilità di accedere al tampone quindi io credo che fino a quando non saranno chiariti questi punti non scaricherò l'applicazione e credo che molti faranno lo stesso e e credo invece che il registratore dovrà risolvere questi aspetti auspicabilmente prima eh della fine della fase tua. Chiudo con questo. Grazie anche a lei Erika. Dottoressa Vaccaro. Beh eh riuscita nonostante in tanti si è parlato dell'app a trovare anche lei degli degli spicchi per introdurre degli elementi di novità o o quantomeno per dare una lettura critica a qualcosa che qualcuno di noi aveva detto addirittura mi va a criticare anche la posizione del nostro garante privacy per il quale il dato anonimo a Pseodon più o meno va lo stesso ma per Erika non fa lo stesso e poi chiude con questo diritto alla salute mentale delle persone che l'app verrebbe a negarci eh c'è molta fantasia e molta libertà giuridica intorno alla mia cattedra da qualcosa non può che rallegrarmi. A questo punto sempre col permesso del di colui che dovrà concludere cioè di Antonio ma l'avevamo anche concordato prima io vorrei fare dire due parole di ringraziamento ringraziamento a vari diciamo gruppi di persone e poi dare pochi istanti al mio maestro Massimo Millone che credo che abbia tutto anche lui diritto di ringraziare e poi ascoltare proprio con doveroso silenzio eh il nostro diciamo colui che dovrà concludere. Ecco me li sono scritti ringraziamenti perché ho una memoria veramente labile. Allora primo ringraziamento lo devo fare al mio maestro Massimo Millone qua sembra ci siamo rimbalzati i ringraziamenti non è così perché perché è vero che l'intuizione di mettere insieme eh queste tre questi tre elementi è venuto a me così come anche quella di tenere insieme un po' tutta l'Italia fare un convegno nord sud tenere insieme anche le donne troppo spesso trascurate nei convegni e la parentesi la chiudo qui ma eh il mio maestro mi ha proprio aiutato a guardare avanti a dare un'impostazione un po' proiettata eh i verso il futuro perché lui mi diceva sempre una cosa e vale a dire io sono un po' timorosa verso le novità lui diceva sempre no 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 le novità le devi capire perché la tecnologia come tutte le novità eh vanno vanno capite solo se le capisci non le temi le puoi governare allora grazie sempre per questa eh per questa capacità di guardare ben oltre quello che il mio sguardo e di invitarmi a guardare ben oltre eh grazie eh come si dice oggi di cuore forse prima non ci si metteva il cuore nel ringraziamento grazie sincero invece a tutti voi a tutte le mie amiche mie amici donne e uomini studiosi e studiose che sono qui intervenuti e che generosamente hanno accolto questo invito mio e e di massimo ehm grazie a tutti voi che ci avete seguito studenti della Federico Secondo altri colleghi persone che sono venute da fuori abbiamo raggiunto dei momenti eh forti ieri più di centocinquanta e più abbiamo anche attivato il canale di YouTube e e quindi ovviamente mi dispiace non aver aperto anche oggi la parentesi della discussione ma poi effettivamente non ci sarebbe più stato tempo grazie poi a Radio Radicale che copre tutto l'evento ci ha accordato che ci ha detto che coprirà tutti i due giorni quindi potrete risentirlo sul Radio Radicale oltre che sul canale di YouTube di questo centro di ricerca interdipartimentale che si chiama Hermes e infine un grazie a tutte le mie eh giovani eh alle mie collaboratrici eh e studiose ehm che non solo hanno superato i vari ostacoli tecnologici che abbiamo incontrato e mi sembra in maniera egregia ma soprattutto sono riuscite a sopportare a placare eh il mio eh diciamo senso della perfezione perché in realtà la perfezione non rende felici ma io non riesco a liberarmi dal limite della perfezione ma loro eh se ne l'hanno diciamo superato abilmente e quindi qui il ringraziamento va in ordine affabetico alla dottoressa Maria Francesca Di Tullio, Laura Grimaldi, Francesca Gnola, Mario Retici, Alessandro Piccarone, Erika Vaccaro, nonché quella bellissima locantina che voi vedete che c'ha quel fiore eh che era stato un po' una mia idea facciamo la locantina col fiore perché deve dare il segno del senso della ripresa io ho molto diciamo un senso artistico nella vita bene e questa locantina l'idea era solo mia ma è stata egregialmente invece eh realizzata da eh franzese da Mario franzese ehm che ha fatto questo fiore che come vedete eh si apre si apre come se fosse un soffione con questo segno appunto di di diffondere allegria ma anche speranza per l'avvenire eh in questi giorni vi scriverò un'email nella quale vi invito a fare il vostro a rendere le vostre idee un contributo scritto perché vorrei fare gli atti e con questo vi sarei proprio grata se non vi faceste inseguire tutti come se fosse delle belle donne eh cioè io vi darei un termine diciamo così per fine giugno e mandatemi quest'atto così facciamo questi scritti agili a questo punto sempre con il permesso di Antonio Ruggeri darei la parola a Massimo Villone per un breve ringraziamento e poi finalmente sentiamo Antonio Ruggeri che ha avuto veramente tanta pazienza. Prego Massimo. Spero che mi sentiate io non ho il video quindi. Ma non è un problema. L'audio. Ci sentiamo. Grazie Giovanna io voglio ringraziare tutte e tutti per aver partecipato a questa iniziativa. Sono felice di aver contribuito in qualche misura anche se però devo dire per onestà visto i tanti ringraziamenti che ho avuto che il peso organizzativo è stato tutto sulle spalle della professoressa Deminico e delle sue validissime collaboratrici. A me pare che il risultato sia stato apprezzabilissimo. La discussione che abbiamo avuto ieri e quei mattini pare che abbiamo colto tutti i profili più rilevanti soprattutto perché ha saputo porsi bene io direi sul fatto e sul diritto insieme. Io credo che lo studioso o la studiosa di diritto costituzionale e diritto pubblico guarda in realtà allo scenario dell'esistente e allo scenario del possibile insieme. Da questo punto di vista credo che siamo più di altri segmenti del sapere giuridico molto vicini al confine tra il diritto e la politica. Ora noi viviamo in un momento di crisi grave che sarà fatalmente questa è una considerazione direi largamente condivisa anche un momento di cambiamento. E però le domande che sono anche cheggiate nella discussione è cambiamento in che direzione? Come dire a che prezzo? A carico di chi? la professoressa abbondante ha usato una parola nel suo ottimo intervento che a un certo punto ha fatto scattare nella mia testa un interruttore, ha usato la parola rassicurante e mi sono chiesto appunto è partito un filone collaterale di pensiero che non aveva a che fare col contenuto del suo intervento ma mi ha fatto pure la domanda ma noi come ceto accademico come studiose come studiosi dobbiamo essere rassicuranti e per la verità no io penso che non dobbiamo esserlo io penso che dobbiamo invece come abbiamo fatto in ampia misura direi ieri e oggi dobbiamo come direbbero gli inglesi pensare outside the box dobbiamo evitare dobbiamo evitare il pensiero unico dobbiamo cercare i come dire i sentieri inesplorati e il tempo questa è la prova che ci viene posta nel tempo in cui viviamo quindi nel ringraziarvi di nuovo io formulo questo augurio a tutti noi di essere all'altezza di questa prova grazie a tutti e passo la parola credo ad antonio ecco si sente sì però io non mi vedo ecco però vedo vedo la scritta massimo villone al centro dell'immagine no e vabbè però noi ti vediamo e ti sentiamo perfettamente allora io anch'io innanzitutto desidero ringraziare di cuore massimo villone e giovanna dominico sia per aver organizzato questo bell'incontro sia per avere sia per avere ora vedo ma ora ora vedo invece andrea simoncini non so ma non riesco a capire il video come funziona comunque insomma voi vedete me comunque la funzione gallery vedi tutti dov'è questa funzione gallery non so dove sia alto a destra lascia sta che stiamo andati bene finora vai vai voi mi vedete comunque ecco allora va beh dico ringrazio di cuore sia per l'avere organizzato questo incontro sia perché hanno pensato anche a me per prendervi parte dibattito come ricordato anche da ultimo massimo villone è stato veramente intenso e fecondo almeno io ho appreso delle cose che non sapevo e di questo ne sono grato a tutti i partecipanti a partire dai più giovani desidero sottoporvi una breve riflessione finale riguardando al tema dell'emergenza della tecnologia dello stato del diritto dal punto di vista della teoria della costituzione e in particolare mi chiedo gli esiti teorico ricostruttivi più consolidati che si hanno su questo terreno cioè sul piano della teoria della costituzione se ne escono confermati se ne escono cambiati in che misura hanno subito una un cambiamento e soprattutto quali possono essere le prospettive per il futuro ecco innanzitutto ecco così impostata la questione la prima il primo problema che dobbiamo porci è se siamo abbiamo assistito e assistiamo ad eventi che addirittura possono essere in qualche modo riportati allo schema classico del potere costituente è uno scenario un po' apocalittico che è stato evocato sin dal primo intervento se non ricordo male di di giovanna de minico ora io qui con i nomi temo poi di fare confusione e soprattutto anche un po' sta nel sottofondo questo scenario anche di moltissimi scritti che sono venuti alla luce in questi giorni in particolare negli scritti di coloro che hanno non hanno risparmiato critiche feroci che anche ieri e oggi ci sono state nei riguardi dell'uso dei famosi dpcm e del ruolo in generale del presidente del consiglio e del del governo ora non ve dubbio che si è trattato dell'utilizzo improprio di strumenti impropri strumenti sicuramente a costituzionali il problema è sapere se sono anche anti costituzionali o meglio appunto se producono effetti distorsivi e soprattutto quale può essere l'obiettivo al quale questi strumenti tendono ora io prima di appunto non sarei così pessimista come qualcuno qualcuno si è dichiarato fino a al punto di dichiarare che si possa determinare addirittura un salto ordinamentale una discontinuità costituzionale la verità è che lo strumento pensato dal costituente per far fronte a casi straordinari di necessità e di urgenza il decreto legge in questa circostanza in particolare ha dimostrato i suoi limiti evidenti di rendimento perché vedete il decreto legge è vero che è stato pensato per far fronte a questi casi straordinari di necessità e di urgenza ma sono pur sempre casi che si svolgono nella cornice di un certo fisiologico svolgimento della vita delle istituzioni e anche delle dinamiche della normazione della produzione giuridica dell'esercizio delle pubbliche funzioni in genere questa pandemia invece ha messo in forza tutto questo cioè c'è come io ho avuto modo anche di recente di dire c'è emergenza emergenza qua siamo in presenza di un'emergenza che avrebbe potuto o dio non voglia qualora domani dovesse tornare ad esplodere in forma ancora più virulenta addirittura potrebbe mettere a rischio la stessa continuità dell'ordinamento del tempo e la stessa sopravvivenza del di 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 milioni di milioni di individui allora in una circostanza di questo tipo è evidente che il decreto legge non basta vi faccio un esempio soltanto a questo riguardo abbiamo avuto due decreti legge che si sono avvicendati nell'arco di 15 giorni e nel frattempo è intervenuta la legge di conversione del primo decreto legge ma la legge di conversione del primo decreto legge non ha tenuto conto del secondo decreto legge e allora la domanda che ci si pone è ma il secondo decreto legge è in vigore o non è in vigore il problema riguardava in particolare il differimento dei termini per il processo civile eccetera qualcuno ha detto è stato abrogato tacitamente perché la legge di conversione ha in realtà convertito tale e quale il primo decreto legge ma vedete questo accavallamento confuso non è pensabile che si possa adottare un decreto legge per il quale si dispone di 60 giorni per la cui conversione si dispone di 60 giorni nel frattempo questo decreto viene modificato tre volte o quattro volte nel corso del tempo quindi è chiaro che ci sono circostanze in cui il decreto legge non può essere sufficiente allo scopo ecco perché si è dovuto fare ricorso allo strumento del dpcm e poi tutte queste ordinanze che sono cadute a pioggia come anche stamattina è stato ricordato dei presidenti delle regioni dei sindici eccetera ora tutto questo ha creato una situazione di confusione incredibile per esempio il cittadino non sa se prestare ascolto al decreto del sindaco o all'ordinanza del sindaco o all'ordinanza del presidente della regione o ancora al decreto del presidente del consiglio dei ministri se non altro per questa ragione cioè per evitare il caos che c'è tuttora e che è fonte di incertezza del diritto e incertezza anche dei diritti da far valere se non fosse altro che per questa ragione io invece a differenza di di santo stagliano e di altri che anche in questo nostro incontro si sono dichiarati contrari all'inserimento di una clausola di emergenza in costituzione io sono favorevole a questo proposito se non altro per evitare un effetto che considero assolutamente controproducente cioè quello per cui in presenza del silenzio della costituzione e posta la insufficienza del decreto legge in quanto tale a far fronte all'emergenza si va all'improvvisazione si va appunto alla alla a un assetto o un equilibrio o uno squilibrio nell'assetto del dei pubblici poteri che questo sì che considero che considero sommamente pericoloso aggiungo un'ultima considerazione su questo punto per andare oltre ed è che anche quando si dovesse definire per sommi capi una sorta di regime dell'emergenza o delle emergenze cioè nonostante ugualmente vorrebbero darsi circostanze in cui il modello costituzionale salta e faccio un esempio soltanto a questo proposito prendiamo quello che dice attualmente la costituzione sullo stato di guerra qui non c'è il silenzio della costituzione c'è un'indicazione molto sommaria su come si fa fronte a una guerra benissimo ci vuole la delibra del parlamento e poi la 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 dichiarazione da parte del capo dello stato ma voi vi immaginate cosa accadrebbe in presenza di un attacco non preannunziato con missili attestate nucleare che nell'arco di pochi minuti cominciano a cadere a pioggia sul territorio del nostro paese se noi dovessimo pretendere la riunione prima di una camera e poi dell'altra il dibattito parlamentare l'opposizione che fa ostruzionismo e poi magari e perché no l'impugnazione della delibera davanti alla corte costituzionale per conflitto di attribuzione fra poteri dello stato cioè è chiaro che le garanzie il sistema dei pesi e contrappesi la centralità del ruolo del parlamento tutto salta in una circostanza del genere perché in una circostanza in un'emergenza si è fatta in cui in pochi minuti bisogna entrare in guerra anche senza averla deliberata cioè materialmente entrare in guerra senza averla deliberata è chiaro che una situazione di questo genere uno scenario di questo genere i meccanismi costituzionali saltano quindi sì ad una disciplina essenziale dell'emergenza ma nella consapevolezza che ci possono essere circostanze in cui non può essere non può essere fatta valere ora in che cosa è accaduto e che in nella nella circostanza odienno dicevo riguardando il problema dal punto di vista della teoria della costituzione e cioè rifacendoci all'aureo insegnamento dei rivoluzionari francesi consegnatoci nel famoso articolo 16 della dichiarazione 1789 ci dobbiamo chiedere dal punto di vista dell'equilibrio dei poteri e dal punto di vista dei diritti se l'idea di costituzione si può dire essere stata fatta salva oppure non ora vedete dal punto di vista della organizzazione molti hanno deplorato un grave squilibrio della forma di governo parlamentare una emarginazione del parlamento e una complessiva torsione nell'assetto delle istituzioni innanzitutto vorrei dire ricordare a me stesso che la forma di governo parlamentare certamente non da oggi ha subito e subisce da forti forti come dire ha subito dei vulnera ha subito delle ferite è una distorsione palese se non altro innanzitutto a causa della annosa questione della crisi della rappresentanza politica e del sistema dei partiti che 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 tutto ha forché carattere sistematico al proprio interno e secondariamente basti pensare anche al ruolo fortemente alterato degli organi di garanzia capo dello stato e e corte costituzionale che in molte circostanze si sono trovati a dovere a dover esercitare un ruolo esso pure improprio alla luce di una rigorosa ricostruzione del modello costituzionale di supplenza come suol essere chiamato ma naturalmente anche qui siamo nel caso di come dire episodi o fenomeni di patologia ma pur sempre che si manifestano all'interno di una cornice di un qualche fisiologico funzionamento funzionamento delle istituzioni certo l'emergenza ha determinato questa forte questa forte torsione ecco perché io mi sono permesso di affacciare l'idea molto di recente in considerazione come dicevo della insufficienza del decreto legge di prevedere che anche i dpcm possano essere sottoposti a un primo vaglio a un vaglio del presidente della repubblica perché a me pare che l'unico organo che possa in via sussidiaria una sussidiarietà necessaria veramente operare per assicurare un minimo di garanzie della tenuta del dettato costituzionale in questa situazione si è presidente della repubblica e se ci fate caso noi qui assistiamo a una sorta di una singolare applicazione della teoria dei vasi comunicanti perché da un lato io vedrei particolarmente rinvigorito il ruolo del capo dello stato proprio a garanzia di quella democrazia parlamentare che versa necessariamente inevitabilmente in una situazione di sofferenza dall'altro invece proprio per la teoria dei vasi comunicanti quando il liquido trapassa nel contenitore che all'etichetta capo dello stato fatalmente si abbassa nell'etichetta corte costituzionale la quale in situazioni di emergenza e di abbiamo molte testimonianze ne abbiamo avuto molte testimonianze anche in passato è costretta a una a un self restrain innaturale richiamo solo due episodi a questo proposito la sentenza 15 dell'ottantadue la famosa sentenza sulla sulla normativa antiterrorismo quando la corte costituzionale si è trovata costretta a non annullare una normativa che prolungava in maniera abnorme i termini massimi di carcerazione preventiva portandole fino a otto anni e asserendo che in situazione di emergenza si giustifica testuale l'adozione di misure insolite come le appudicamente definite che si giustificano appunto in nome dell'emergenza ma che devono essere immediatamente eliminate una volta cessata l'emergenza ma sta di fatto che ci ha messo la classica pezza e poi ricordo il secondo episodio la sentenza 17 del 2019 recentissimo quando la corte costituzionale davanti ad una vistosa macroscopica violazione delle regole costituzionali e regolamentari sulla formazione delle leggi che che la corte stessa ne abbia detto vistosissima violazione ha dovuto ha dovuto per salvare i conti pubblici la nostra immagine la tenuta dei nostri rapporti con i partners europei ha dovuto far salva la legge di bilancio che peraltro pietati scausa gli stessi ricorrenti non volevano annullata una stranezza perché nel momento in cui la corte costituzionale come noto dichiara dichiara che è stato che è stato che sia avuto una torsione in sede di conflitti di attribuzione fra poteri dello stato dice la legge 87 e 50 deve annullare l'atto lesivo della competenza e quindi né i ricorrenti potevano chiedere che non fosse annullata la legge di bilancio né la corte costituzionale avrebbe potuto trattenersi dall'annullare ma comunque lasciamo perdere questo aspetto io volevo solo sottolineare come il ruolo della corte costituzionale sia come dire necessariamente obbligato a contenersi in situazioni di emergenza e non vedo un'emergenza maggiore di quella che abbiamo avuto mentre vedrei meglio il ruolo del capo dello stato ad ogni buon conto la tecnologia è venuta in soccorso del sistema istituzionale è venuta in soccorso tanto vero è che grazie alla tecnologia si è potuto assicurare il funzionamento degli organi costituzionali basti pensare ad esempio alle misure adottate dalla corte costituzionale per consentire la celebrazione dei giudizi anche dalle corte europee sono state adottate e tutta una serie di altri provvedimenti che hanno potuto consentire il fisiologico svolgimento della vita delle istituzioni qualora domani noi ci dovessimo trovare in una situazione ad esempio di voto parlamentare a distanza questo però non voglio dire nulla dopo le cose egregie che ci ha detto Lara trucco in ogni caso forse come dire sarebbe il male minore certamente se noi non avessimo avuto le risorse della tecnologia ci sarebbe saremmo la vita delle istituzioni si sarebbe trovata obbligata ad una stasi naturale con effetti catastrofici e vengo all'altro all'altra gamba dopo la gamba del rapporto delle istituzioni alla gamba dei diritti sul versante dei diritti possiamo dire che nella situazione di emergenza abbiamo avuto la costituzione abbiamo avuto il vigore della costituzione e soprattutto sul versante dei diritti quali scenari si prefigurano una volta cessata l'emergenza qui è il punto crucis della questione costituzionale su cui noi dobbiamo fermare la nostra attenzione ecco anche oggi sia ieri che oggi ho sentito delle cose egregie per quanto riguarda i limiti vistosi ai quali sono andati i soggetti diritti particolare naturalmente più di altri ma non solo i diritti sociali e tutti i diritti di libertà tutti i diritti sono andati compressi si sono trovati compressi in conseguenza della 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 situazione nella quale nella quale ci siamo trovati ora qualcuno ha detto anche stamattina però non ricordo chi e chiedo scusa per questa dimenticanza che i diritti in realtà richiamando più volte sono sono richiamata la sentenza il ma la 85 del 2013 che tutti i diritti nessun diritto si può affermare tirannicamente sugli altri che tutti i diritti devono essere bilanciati fra di loro bisogna puntare all'obiettivo della massimizzazione della tutela dei diritti o io direi al contrario all'obiettivo di evitare la minima sofferenza possibile nella dei diritti in circolazione e tutte cose vere naturalmente però non ci dimentichiamo un piccolo particolare che i diritti presuppongono la vita la vita e la salute delle persone per essere votuti quindi io non posso dare tutti i torti all'impostazione che ha dato il governo conte quando ha detto fermiamo tutto perché c'è c'era la necessità in una prima fase almeno di fermare tutto perché si trattava di salvare la vita e la salute delle persone è chiaro che poi ci siamo trovati davanti a scelte tragiche come ci ha ricordato caso nato la quale mi dispiace che non abbia potuto mantenere il collegamento volevo mi permetto soltanto di ricordare poi magari se qualcuno di voi ha modo di sentirlo glielo può dire che c'è stata una bella intervista che è stata fatta dalla rivista giustizia insieme qualche giorno fa soprattutto a luigi ferraioli è stata fatta anche a me ho un illustre luminare della medicina non mi ricordo chi proprio dedicata a questo problema specifico di dell'utilizzo dei casi in cui i posti di terapia intensiva siano assolutamente limitati e di quale criterio o quali criteri mettere in campo per per far luogo alla scelta non aggiungo nulla alle cose che ha detto Carlo Casarato dico semplicemente che a me sembra mostruoso immaginare di dover fare la scelta fra due vite uguali mostruoso qualunque siano queste vite la vita del vecchio novantenne che comunque non ha davanti a sé un lungo orizzonte temporale come la vita del ventenne in piene forze qualcuno ha detto negli Stati Uniti d'America che ora non ricordo il nome di questo filosofo che bisogna comunque dare la precedenza alla vita dei medici perché i medici possono a loro volta tornare poi a salvare a salvare tante altre vite umane ma io anche se la mia mente come dire alle volte mi consente di avvicinarmi a questo punto di vista io non riesco ad identificarmi totalmente con questo punto di vista perché non riesco a mettere su due piatti di bilancio la vita di un essere umano come quella di altre anche di tante altre tante altre persone ad ogni buon conto che i diritti siano stati fortemente compressi mi pare un dato assolutamente innegabile ma ecco io mi pongo a questo punto e con questa riflessione riflessione finale concludo il mio intervento scusandomi anche non so neanche esattamente quanto tempo ho impiegato dicevo in prospettiva futura ecco in prospettiva futura io vorrei sottoporvi questa questo interrogativo al quale mi limiterò a fare solo un inizio a dare un inizio di risposta una società tecnologicamente avanzata è compatibile con lo stato di diritto o con lo stato di diritto così come noi lo abbiamo imparato come lo abbiamo sperimentato o fino a che punto è compatibile con lo stato di diritto giovanna demenico ci ha detto stamattina che quando si supererà questa fase quando ci lasceremo alle spalle questo tsunami lo dico con parole mie naturalmente lei l'ha detto molto più efficacemente bisognerà andare a compensazioni e come dire in vista dell'eguaglianza sostanziale e da questo punto di vista la tecnologia può essere come dire un carburante cioè un fattore per il raggiungimento dell'eguaglianza sostanziale tutto questo io lo sottoscrivo in pieno però vedo anche l'altra faccia della medaglia l'altra faccia della medaglia mi porta a dire che la tecnologia può essere fattore di gravi discriminazioni e soprattutto può essere un fattore come già anticipava Oreste Pollicino in un messaggio che è scritto via chat poi io siccome non le so usare le chat non ho potuto rispondere la tecnologia può essere fattore di un distanziamento tecnologico fra chi è tecnologicamente appunto attrezzato e chi non lo è il quale poi si tradurrà in quello che a vi piace chiamare un distanziamento costituzionale così almeno lo chiamo in uno scritto e qui vi do un'anticipazione che darò oggi stesso a Lara Trucco se nella sua benevolenza me lo vuole pubblicare su consulta online che cosa intendo per distanziamento costituzionale distanziamento costituzionale intendo dire un gap incolmabile fra chi ha un minimo di conoscenza informatica e chi questo minimo non ce l'ha ora vedete l'ordinamento giuridico alle volte può essere anche pietoso e anzi deve essere pietoso per esempio punisce l'istigazione al suicidio ma non punisce chi tenta senza riuscirvi di suicidarsi partendo dal presupposto che la vita è un bene comunque meritevole di essere protetta e non lo fa per la pietà sadovuta ad una persona in una situazione di grave sofferenza psico fisica psichica soprattutto ma la scienza è impietosa la scienza non è clemente con chi non ha non ha un minimo di conoscenza in grado di potersene avvalere oggi già oggi la società nostra è tecnologicamente strutturata in maniera tale che se io voglio esercitare un mio diritto o adempio il mio dovere e non sono e non sono come dire in grado di poter usare il mezzo informatico non lo posso fare se io sono studente universitario e le prenotazioni sono online non posso farle se non online se io sono un docente universitario e devo fare una verbalizzazione di un esame online se io non la so fare non la posso fare se io non so usare il mezzo tecnologico già oggi tante relazioni sociali non posso sono tagliato fuori in futuro sarà ancora peggio nel momento in cui la tecnologia va totalmente pervaso ogni capo della vita sociale allora qualcosa è immaginabile per il futuro e di che cosa abbiamo bisogno e con questo chiudo davvero abbiamo bisogno per i soggetti tecnologicamente diversamente abili fra i quali io mi annovero e tutto questo naturalmente lo sto dicendo protomomea questo sia chiaro abbiamo bisogno di un mucchio di prestazioni di solidarietà e la società vedete si deve attrezzare da subito per venire incontro a queste persone non non tanto alle persone che non hanno materialmente il pc o il mezzo informatico perché noi domani possiamo prevedere uno scenario in cui a tutti gli studi a tutti i bambini delle classi elementari sarà dato il pc o a tutti noi sarà dato anche l'accesso ad internet come diritto sociale come ci ha insegnato giovanna de minio sarà dato a tutti non è questi qua stiamo è un prius quello che io sto dicendo qui c'è un problema di conoscenza di cultura di base di conoscenze non di avere l'apparecchio ma di avere un bagaglio di conoscenze questo bagaglio di conoscenze si deve acquisire sin dall'età scolare così come noi apprendiamo nella prima elementare a leggere e scrivere e i rudimenti della matematica facendo le aste contandole dovremo apprendere i rudimenti della tecnologia che peraltro già oggi come mi ricordava anche stamattina o ieri Cristina Cristina Grisolia già i ragazzini i ragazzini hanno 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 a due anni sa usare il computer ma l'insegnamento della tecnologia che richiederà molto spazio sin dalla prima elementare si realizzerà si realizzerà fatalmente a discapito delle discipline umano sociali cioè noi rischiamo di avere una cultura complessiva in qualche modo vorrei dire disumanizzata per non adoperare una parola un po' troppo impegnativa e naturalmente su certi idee di equivoci sta di fatto che abbiamo bisogno di una società dove il dovere di solidarietà nel suo fare tutt'uno col dovere di fedeltà alla repubblica sia davvero come dire sia il perno su cui si viene organizzato l'intero l'intero assetto delle relazioni sociali insomma i diritti fondamentali possono avere ancora possono avere ancora un futuro solo se avrà un futuro il dovere di solidarietà vi ringrazio molto e mi scuso se ho abusato troppo del vostro tempo grazie a tutti io direi accendiamo i microfoni e facciamoci un applauso tutti noi e un applauso al nostro paese che riparte ciao a tutti grazie di cuore a presto prima di chiudere qualcuno mi può insegnare come si scrive una chat perché io sono nella chat ma come faccio a scrivere una chat grazie a tutti Grazie.